Buongiorno a tutte e a tutti, benvenute e benvenuti a questa seconda giornata del nostro convegno Dante e altri classici. Siamo sinceramente contenti della bella giornata, bellissima giornata di ieri con tanti interventi significativi sia di persone e di istituzioni con le quali abbiamo lavorato produttivamente, fruttuosamente alla preparazione di questo incontro e naturalmente col grande intervento, stupendo intervento di Uole Soinca che ha veramente dato a questo convegno una dimensione internazionale, contemporanea, anche drammatica, su quello che stiamo vivendo nei nostri tempi. Bene, oggi abbiamo una giornata altrettanto intensa, importante, con tanti incontri che ci portano naturalmente da una visione storica, da una ricezione storica dell'opera di Dante, a una ricezione universale, internazionale, quindi coinvolgendo tanti altri paesi e tante altre nazioni e questo avverrà fin dalla prima sessione appunto presieduta dall'amico Angelo Piero Cappello, direttore del CEP, il centro per il libro e la lettura. E poi nel proseguimento approfondiremo tanti altri argomenti relativi allo stato dell'arte, degli studi danteschi, alla didattica dantesca nell'università e nella scuola e arriveremo alle quattro all'intervento molto atteso di Elena Ferrante appunto su Beatrice, in particolare su Beatrice. E poi dopo concluderemo i nostri lavori dandoci appuntamento a tutte le iniziative di maggio, giugno e luglio e anche poi per quanto riguarda l'ADI in particolare al congresso di settembre, che speriamo di poter fare in presenza a Catania, dal 23 al 25 di settembre. Bene, io ora cedo la parola all'amico Alberto Casadei che ci illustrerà brevemente appunto alcune cose relative ai nostri siti danteschi. Grazie. Grazie Gino, anche da parte mia un saluto a tutte e tutti. In questa seconda giornata come è già stato detto ci saranno molti incontri e appunto anche in diretta avremo alla fine di questa mattinata anche Olga Sedakova e Antonella Nedda in dialogo con Florin Danardi, quindi non rubo molto tempo, ma volevo ricordare a chi non era collegato ieri e comunque vuole rivedere materiali di questo convegno e in generale del gruppo Dante che c'è un sito oltre a quello ufficiale italianisti.it dell'Associazione degli Italianisti, il sito Dante e noi e prego i nostri ottimi Fabio Curzi e Lorenzo Trovato di fare scorrere ecco questo breve filmato in cui vedete questo sito Dante e noi.it che appunto contiene informazioni di base su Dante, notizie che abbiamo creato nel corso di anni sulle iniziative per le scuole, sulle iniziative nell'università, nelle città italiane, quelle che si fanno per la buona divulgazione come come si dice e appunto oltre a questo ci sono i materiali ricavati da molte iniziative dantesche organizzate dall'Adi o anche da altri. C'è un calendario con tutte le iniziative del 2021 che è continuamente aggiornato come tutto il sito da la nostra Elisa Squiciarini che ringrazio moltissimo per il grande impegno, anche adesso sta aggiornando e trovate proprio le notizie più recenti e oltretutto poi ci saranno i link ai video, ai materiali di questo convegno e a tutto quello che può interessare. Oltre a questo naturalmente daremo notizie di tanti altri eventi anche non dell'Associazione degli Italianisti, ovviamente spesso alcuni di noi partecipano singolarmente a importanti iniziative e cerchiamo sempre di segnalarle e comunque la cosa fondamentale è che chi vuole recuperare materiali per la scuola, più tardi illustreremo iniziative dell'ADSD, illustreremo le video lezioni dantesche organizzate appunto dal gruppo Dante a favore della scuola, ecco può sicuramente farlo attraverso il sito Dante e noi, ecco qui l'abbiamo soltanto fatto vedere velocemente ma era importante. Do la parola adesso a Angelo Cappello per questa nuova sessione, ricordo solo che era previsto anche un intervento dell'amico Pierluigi Pellini su Dante in Francia, purtroppo questo non ci può essere, sarebbe stato un importante completamento del quadro internazionale che stiamo creando, ma gli ottimi incontri e gli ottimi interventi di stamattina ovviamente daranno già una bellissima prospettiva. Ecco, do la parola ad Angelo per l'inizio di questa sessione. Grazie Alberto, allora diamo inizio alla giornata, a questa seconda giornata, lasciatemi però prima dire, per me almeno che non appartengo all'ambiente accademico, che ieri con l'affascinante intervento di Wolso Inca, ma anche con quelli della Gallo e di Reitani, esperti di letteratura inglese e tedesca, ma prima ancora con la ricchissima, anzi permettetemi di definirla sontuosa dissertazione di Giulio Ferroni su Dante nel Cinquecento, si sia davvero offerta in maniera precisa la testimonianza di cosa significhi dire che la poesia, quando è tale ovviamente, abbia lo straordinario potere di travalicare steccati di spazio, di tempo, di lingue, aprendo al dialogo senza confini tra uomini di ete, di oggi, di oriente, di occidente, del mondo di sopra e di quello di sotto. Oggi, volendo restare dentro i confini geografici della nostra Europa e dell'erroca in cui viviamo, diciamo che l'intero novecento poetico, si potrebbe dire, si è aperto a partire dalla riflessione che, forse semplificando, si potrebbe dire su Dante come primo fondatore di un canone etico occidentale e di un canone poetico universale. Pascoli e D'Annunzio, non meno che Elliot e Pound o Anna Akhmatova e Scimusini o i nostri Caproni e Zanzotto. E Luzzi e ovviamente Montale. Montale non lo dico, non l'ho detto per caso, Montale lo dico proprio perché la prima, il primo intervento si è intitolato Dante e Montale ad opera di Stefano Carrai che non ha bisogno di presentazione ma lo dico per per obbligo del ruolo che oggi che oggi ricopro. Stefano Carrai è professore ordinario di letteratura italiana alla scuola normale superiore di Pisa e si è occupato prevalentemente di studi medievali e rinascimentali ma anche di letteratura contemporanea. Tra i suoi studi sull'età medievale e umanistico rinascimentale ricordo appena le muse dei Pulci nell'ottantacinque, la litiga toscana del 200 nel 97. A Dante invece ha dedicato studi come Dante e Leggiaco nel 2006 e Dante e l'Antico nel 2012. Ma più recentemente nel 2019 il commento al purgatorio avviato da Saverio Bellomo. Si è occupato a lungo anche di autori contemporanei come Svevo con il volume Il caso clinico di Zeno e altri studi di filologia e critica sveviana uscito nel 2010 e più recentemente si è occupato di Sabba con una monografia uscita nel 2017 per il Salerno di Roma. Ecco la parola dunque a professor Stefano Carrai. Grazie, grazie dottor Cappello della presentazione. Allora abbiamo ancora tutti negli occhi lo splendido corto che abbiamo visto alla fine del pomeriggio di ieri sul canto di Ulisse e quindi diciamo riaprire i lavori è naturalmente arduo soprattutto poi in caso mio che non posso fare altro che riportare il discorso su un piano storico critico perché appunto come ha anticipato il dottor Cappello io cercherò appunto di illustrare l'importanza di Dante per quello che sicuramente va considerato il poeta più importante del novecento italiano anche per l'influsso che ha esercitato insomma sulla storia della poesia e sulla storia della cultura in genere vale a dire Eugenio Montale. Certamente appunto il ritorno di Dante nella poesia del novecento è un fatto molto cospicuo e quindi coinvolge tanti altri basterebbe pensare appunto a Caproni ma anche a Zanzotto come è stato già detto però nel caso di Montale c'è una consapevolezza forse maggiore che per gli altri nel fare del rapporto con l'opera di Dante veramente un cardine insomma della propria poetica. D'altra parte il rapporto con la tradizione poetica anche la più lontana è stato sempre vitale per Montale e fu forse la sua formazione scolastica svolta in ambito tecnico a spingerlo nella direzione di un recupero di un corpo a corpo ovvero uno strettissimo dialogo con i suoi predecessori vicini o distanti con il conforto anche della sorella Marianna che aveva fatto lei invece studi classici e questo può valere per i sepolcri di Foscolo parziale modello della serie dei sarcofagi tanto per fare pochi esempi come poi anche per Shakespeare letto e tradotto a più riprese e però ecco un posto di rilievo in questa prospettiva a come dicevo l'opera di Dante e soprattutto l'opera poetica di Dante riferimento direi quasi costitutivo e connotante e non solo dal punto di vista del linguaggio ma riferimento nel quadro di una dinamica proprio di emulazione e di innovazione estremamente ricca e proficua non è un caso che proprio Montale venisse scelto per chiudere il grande convegno di studi fiorentino per il centenario dantesco del 1965 perché gli organizzatori intendevano chiuderlo appunto con la voce di un poeta che potesse dire quanto le suggestioni della poesia di Dante avessero contato per lui è un caso che come la critica rilevato più volte il Montale ventenne di meriggiare pallido assorto ordisse quel testo su una insistita tramatura rimica ostentatamente dantesca proprio sintomo peraltro di una ispirazione nient'affatto ridotta a imitazione nella fattispecie l'adozione dell'espressività e del realismo del lessico dantesco non era tuttavia un semplice ammiccamento al lettore né un banale orpello anzi mirava proprio a restituire un effetto di segregazione di claustrofobia dell'io impossibilitato ad evadere oltre scriveva Montale la muraglia che ha in cima Cocci e Aguzzi di Bottiglia questa muraglia con cui Montale rappresentava il limite invalicabile della concezione umana dunque il dantismo che veicola significati moderni orientati come è noto al pessimismo schopenhaueriano e al contingentismo francese così uno dei testi del ciclo eponimo degli ossi di seppia che si porta in genere a esempio della poetica del primo Montale prendeva avvio da un'altra reminiscenza dantesca sia pure abilmente mimentizzata e spesso il male di vivere o incontrato era il rivo strozzato che gorgoglia come è stato come è stato segnalato l'immagine del corso d'acqua ingorgato con cui il poeta prendeva il disagio dell'esistere tesaurizzava palesemente almeno sul piano fonico la descrizione degli acidiosi che quest'inno si gorgogliano nella strozza e del resto questo stretto legame della poesia di Montale con quella dantesca fu individuato prestissimo dalla critica e poi studiato sistematicamente qui ricorderei molti lavori ma forse fra tutti mi piace ricordare Giovanna Ioli che fin dalla sua tesi di laurea però è tornata a più riprese su questo tema e tra l'altro dimostrando anche che questo impiego sistematico di dantismi era già nella raccoltina accordi che precede gli orsi e quindi è lecito pensare che questa immedesimazione di Montale con linguaggio dantesco soprattutto quello della prima cantica della commedia risalisse addirittura direi agli anni della scuola del resto in un'intervista del 1975 rilasciata all'amico Giorgio Zappa che gli chiedeva appunto delle sue letture in particolare della sua familiarità proprio con l'opera dantesca e se questa familiarità risalisse proprio appunto agli anni della formazione scolastica a Zappa appunto Montale rispondeva sì e dopo quindi sia agli anni della scuola ma anche dopo Dante aggiungeva Dante ha fatto il pieno come direbbe un automobilista e per gli altri la benzina è stata scarsa così a significare che fra i classici era stata proprio quella di Dante la lettura ricorrente e predominante all'altezza degli ossi di seppia questo risulta funzionale soprattutto a ricreare atmosfere opprimenti entro il ruvido e impervio paesaggio libure atmosfere tali da imprimere più forza alla rappresentazione di una natura inospite e di conseguenza a quella di un'anima prigioniera nel cosmo. Via Vincenzo Melgaldo ha osservato che questa poetica si nutre dice di tutti quei vocaboli che in Dante indicavano in genere petrosità, aridità, asprezza e violenza, arsura, sviluppo, impaludamento, insomma le qualità disforicamente più caratterizzanti del mondo infernale, dice Melgaldo. E questo lo aggiungerei proprio perché il movente non era quello di impreziosire il dettato poetico per Montale, impreziosirlo di echi e di citazioni, ma anzi di appropriarsi intimamente di un registro espressivo. Una maggiore consapevolezza nella gestione di questa allusività dantesca, come segnalò per primo Pietro Bonfiglioli, si fa strada del resto nelle poesie aggiunte nel 1928 alla seconda edizione degli Ossi di Sepia, l'edizione Ribè. Ora che questo quindi precoce familiarizzarsi con la poesia della commedia dantesca da parte del giovane Montale passasse attraverso il filtro dell'estetica crociana e in particolare del saggio di Croce poesia e non poesia ce l'ha detto in maniera inequivocabile il poeta stesso proprio in quel discorso dantesco del 1965 che chiudeva appunto il convegno fiorentino. Montale rievocava in quella occasione la chiave di lettura idealistica del poema dantesco intesa a sceverare secondo appunto il magistero di Croce i momenti autenticamente e memorabilmente poeti da quelli invece eminentemente strutturali. Questo atteggiamento critico mutò in seguito al trasferimento del poeta a Firenze sul finire degli anni venti perché inizialmente Montale appunto aveva fatto proprio questo modo di guardare a Dante da parte di Croce e della critica crociana. A Firenze da principio molto dovette incidere il fascino esercitato dal dantismo di Eliot e di Pound che era rifunzionalizzazione originale della spiritualità medievale per rappresentare la crisi dei moderni e insieme almeno agli occhi di Montale era anche l'egittimazione di una riattualizzazione di atmosfere dantesche e cavalcantiane. Il saggio su Dante di Eliot fu tradotto in italiano solo nel 1942 però a Firenze se ne parlava tra i conoscenti e gli amici di Montale e Montale in effetti potrebbe averne conosciuto direttamente il testo inglese oppure semplicemente i contenuti riportati a voce da altri. Claudio Scarpati ha sottolineato la funzione di mediazione verso il pensiero critico di Eliot che dovessero svolgere soprattutto la conversazione con Praz e poi il saggio di Praz intitolato T.S. Eliot e Dante, saggio uscito su letteratura nel luglio del 37. Più ancora però sull'evoluzione in senso post-crociano del dantismo montagliano influì certo l'amicizia con Contini e non solo perché Contini sarà stato un altro probabile mediatore verso il dantismo di Eliot ma anche in quanto il grande filologo era impegnato proprio durante la seconda metà degli anni 30 era impegnato nell'edizione commentata delle rime di Dante che Montale potrebbe anche aver conosciuto in corso d'opera. In generale comunque dovete contare il clima di crocevia fra letterati sia creativi sia accademici che si respirava nella Firenze di allora, negli anni 30. Nel giro delle giubbe rosse oltre a Contini il poeta incontrò il dantista americano Charles Singleton di cui divenne amico e a cui dedicherà la tarda lirica sono passati 30 anni, forse 40, tarda lirica raccolta in altri versi. E nelle sale del gabinetto VSE oppure anche nelle redazioni di riviste come Pan e Pegaso, su cui Montale collaborò attivamente, era possibile imbattersi negli studi danteschi di Michele Barbio, di Mario Casella oppure in una delle figure più eminenti di quella che era stata la scuola storica, cioè Pio Raina, dantista anche lui e titolare di una poesia montaliana intitolata appunto a Pio Raina nel quaderno di quattro anni in cui si rievoca con deferenza la conoscenza avvenuta proprio nelle sale del VSE con Raina e la partecipazione di Montale al suo funerale nel 1930. E voglio ricordare anche la generale propensione dantesca in quegli anni del gruppo degli ermetici fiorentini ad esempio da parte di Betocchio, del giovane Luzzi, che Montale frequentava quasi quotidianamente al caffè. Ma a quest'altezza di tempo era già entrato in gioco anche il personaggio adombrato sotto il nome di Clizia, il grande ispiratrice della poesia montaliana degli anni 30. Clizia, cioè Irma Brandeis, americana, anche lei studiosa di Dante, ma soprattutto grande quanto impossibile amore montaliano proprio della metà degli anni 30. Nella rappresentazione tormentata di questo scacco sentimentale, Irma diventa, sotto il velame dell'allegoria, un'altra beatrice. E il poeta diventa stinovisticamente il suo fedele. In una vicenda di perdita il cui strascico durerà per la vita intera. C'è da parte di Montale, ha scritto ancora Mengaldo, il sentimento che grumi di linguaggio e immagini e motivi danteschi siano immediatamente cifrabili in senso allegorico moderno. Ancora Scarpati ha ipotizzato perfino che da un passo dell'introduzione alle rime di Dante, in cui Contini aveva sintetizzato la poesia stinovistica parlando proprio di occasioni, Montale abbia tratto l'idea di intitolare Occasioni, il suo secondo libro diversi. Chissà. Per questa via dunque l'amore irrealizzabile a causa della incolmabile distanza e soprattutto di una sorta di acidia passionale da parte del poeta, questo amore diviene figura dell'amore sublime e disinteressato di Dante per la donna perduta la cui anima lo avvicina al mistero divino. Ma Irma Brandeis rimarrà anche in seguito nell'immaginario montaliano musa e al tempo stesso esperta dantista, tanto che nel citato discorso al convegno del 1965, Montale citerà esplicitamente con parole molto lusinghiere, proprio il volume di Irma The Ladder of Vision e ancora in una poesia di altri versi intitolata Rimuginando si confronterà sia con Dante personaggio sia con Clizia stessa scrivendo non mi sono addentrato nella selva, ne ho consultato sempre una buonaventura come Clizia che Dio la protegga. In un breve testo compreso in altri versi egli immaginerà addirittura che lui e Clizia si ritrovino nell'aldilà a discettare sull'interpretazione di qualche enigmatico passo della commedia. È la breve poesia che comincia 80 fede in te. E d'altronde di Dante, Montale e Irma avranno parlato per davvero chissà quante volte. Si ricorda ad esempio che il 10 gennaio 1934 a proposito delle sue letture preferite Montale le aveva scritto I like Dante and not much Leopardi. La stessa enfasi che Irma poneva sulla severa figura di Beatrice nel paradiso terrestre come risulta bene in alcune pagine di The Ladder of Vision. Appunto questo rilievo, questa sottolineatura appunto della Beatrice con il biasimo vero che rivolge a Dante nel paradiso terrestre avrà probabilmente influenzato la rappresentazione che Montale darà di Clizia come messaggera accigliata fin dall'elegia di Pico Farnese. Quindi la sinergia fra il dialogo con Contini e la passione per la bella tantista americana dovette creare insomma una nuova maniera di intendere e di rivisitare il testo dantesco o di quello dei poeti medievali in genere. Maniera che si lascia alle spalle appunto la visione crociana ma supera in parte anche quella di ascendenza anglosassone e veicola insieme con questo anche le istanze dell'antifascismo. Lo si vede ad esempio nella posizione polemica verso Pound. Pound che Montale conobbe bene fra il 25 e il 35 ma dal quale prese poi le distanze sia perché idolatra di Mussolini Pound sia perché millantatore riguardo alle conoscenze di poesia provenzale e anche improvvisato se non cialtronesco editore delle rime di Cavalcanti. Ma su questo qui non posso che sorvolare però insomma Montale ha alcune pagine piuttosto dure su Pound a questo riguardo. È chiaro che oltre alla divergenza delle opinioni politiche insomma era ormai molto diverso da Pound ma anche da Eliot il modo di guardare alla poesia medievale e di appropriarsi da parte di Montale al quale la frequentazione di Irma Clizia e quella di Contini avevano guadagnato una familiarità non solo con Dante ma direi anche con la dantistica familiarità che lo induceva a riportare il testo dantesco nel suo sfondo originario senza precludergli per questo vero la riattualizzazione imparata sulle pagine soprattutto di Eliot poeta e saggista. Convergeva verso questa immedesimazione di Montale in Dante forse anche la defenestrazione dal direttore del VSE che nel 38 lo aveva privato repentinamente dello stipendio per non essere iscritto al PNF e che aveva creato credo insomma in qualche modo una sorta di sintonia psicologica con l'esperienza dantesca dell'esilio e vi convergeva anche in questa immedesimazione naturalmente soprattutto l'assenza di Irma Clizia tornata nei suoi Stati Uniti e il ritorno di lei nella mente alla maniera della Beatrice di Dante ma certo in nessun modo Montale neanche come critico punto mai su quella che considerava la presunta modernità di Dante non si trattava insomma per Montale come risulta bene proprio ancora da quel da quel importantissimo discorso critico del 1965 non si trattava per lui di portare Dante verso di noi facendone arbitrariamente un nostro contemporaneo la vicinanza stava invece proprio nella inattualità di Dante che in un'epoca di medioevo prossimo venturo o diciamo di crisi piena delle strutture espressivi espressive della modernità ne faceva per Montale un punto di riferimento privilegiato e addirittura irrinunciabile insomma quasi un punto di di fuga dall'orrendo presente il tantismo di Montale del resto si freggia dell'adozione sia pure sporadica di lessico dantesco come belletta bulicame burrato gora immillarsi ingrommarsi minugia proda vivagno e si potrebbe continuare parole che in parte potevano essere anche mediate attraverso pascoli o d'annunzio cioè attraverso diciamo il dantismo di pascoli o di d'annunzio certamente però ci sono anche molti prelievi diretti sui quali ora non posso soffermarmi perché rischierei di essere troppo prolisso comunque che questi prestiti siano funzionali soprattutto a ricreare un'atmosfera da verno mostra bene ad esempio una lirica insomma apparentemente tutta di carattere sportivo come baffalo in cui però il catino del velotromo parigino è connotato subito come dolce inferno questo genere di allegoria si legherà dichiaratamente all'idea dell'oppressione nazifascista specie nella bufera e specie in poesie come la primavera italiana o l'orto come negli ossi e nelle occasioni anche nella bufera le atmosfere dantesche rinviano per lo più però alla prima cantica è all'inferno e per contro ecco negli ultimi libri da satura in poi l'affiorare di puntuali ricordi danteschi muta di intensità e di significato nel senso che che perde un po' di intensità ad esempio l'acme del colloquio con il defunto con l'altro quest'acme che si raggiunge negli Xenia con immaginario nel dialogo con la moglie defunta un immaginario a tratti infernali e a tratti anche paradisiaco questo però non implica un incremento di allusività dantesca anzi la stessa programmatica immersione nel quotidiano oltre propria di satura con conseguente abbassamento tonale non porta con sé una più rilevata aura dantesca né dal punto di vista stilistico né da quello delle immagini anche un testo come l'angelo nero al di là di quello che ci si potrebbe aspettare non si colora in maniera evidente di tinte dantesche semmai è un certo gusto da espressionismo culinario che può rimontare a scene dell'inferno penso per esempio a sogno del prigioniero nelle conclusioni professore della bufera ma anche a immagini delle raccolte successive e fino ai versi 3-4 dell'educazione intellettuale che apre il quaderno di quattro anni oggi la linea dell'orizzonte è scura e la proda ribolle come una pentola dove è evidente il precedente della proda del bollor vermiglio dove i bolliti facean alte strida di inferno 12 quando Dante descrive la punizione dei violenti contro il prossimo immersi nel sangue bollente del flegetonte sicché è assai probabile che la tematica del supplizio dell'essere cuscinato abbia insomma un innesco propriamente dantesco ma nell'ultimo montale e mi avvio a concludere il dantismo si fa strada più che altro in chiave direi parodica ad esempio nel caso di A un grande filosofo nel diario del 72 poesia dedicata a Croce la cui point finale è ricavata dalla citazione di uno dei più celebri versi della commedia per la contraddizione che non consente da inferno 27 verso fatto pronunciare al diavolo che contende a San Francesco l'anima di Guido da Montefeltro facendosi forte del fatto che non è possibile che questi si sia pentito dei suoi peccati e abbia al tempo stesso dato a Bonifacio VIII il fraudolento consiglio di promettere e non mantenere che gli consentì di sbaragliare i colonna serragliati nella rocca di Palestrina l'espressione dantesca è rifunzionalizzata da Montale qui per stigmatizzare l'illusorio spiritualismo di Croce destinato a rimanere avulso dalla realtà e si noti che un tale riuso di versi altrui con decalage stilistico va anche oltre il rapporto con Dante e si estende anche però ad altri antecedenti stesso fenomeno applicato a un sintagma dantesco torna del resto in un epigramma di altri versi brevissimo c'è chi tira a pallini e c'è chi spara a palla l'importante è far fuori l'angelica farfalla l'explicit è costituito dalla parosia della nota formula dantesca di Purgatorio X volta da Montale è vero questa parodia a sottolineare il materialismo della società dei consumi e quindi siamo come si vede in un terreno di citazioni trite assorbite ormai dal linguaggio comune l'angelica farfalla come la contraddizione che non consente assorbite dal linguaggio comune per cui anche il dantismo rientra ormai in un repertorio scontato bagaglio di tutti ed è proprio perciò adatto a suggellare il discorso poetico in stile umile dell'ultimo Montale vi ringrazio grazie dunque a Stefano Carrai per questa bella carrellata dentro dentro il mondo montaliano guardando però a Dante mi sembra particolarmente interessante questo fatto che probabilmente il confronto con Dante nasce già in una fase precedente gli ossi di seppia e mentre Montale costruisce la propria identità di poeta intanto assorbe in una prospettiva quasi mimetica il confronto con Dante cosa che poi non gli impedirà di dire proprio in quel in quel convegno che citava il professor Carrai non gli impedirà di dire dopo Dante nessuno potrà dirsi poeta e in parallelo al momento in cui invece dice nessun poeta del novecento può dirsi tale che non abbia attraversato che non abbia attraversato d'annunzio quindi probabilmente la mediazione d'annunziana e pascoliana come diceva il professor Carrai c'è ma la cosa interessante di tutto questo discorso mi pare che poi tutta questa dimensione come dire intraletteraria si traduca e si versi in qualche modo poi dentro una dimensione più esistenziale più biografica al momento in cui il rapporto con Irma Brandeis che poi è anche Eclizia ma è anche Beatrice insomma si confonda all'interno di una triangolazione con lo stesso Contini e diventa letteratura perfino la vita insomma bellissimo questo tipo di lettura grazie professor Carrai passiamo al secondo intervento quindi è quello invece di Erminia Ardissino e Bianca Maria Rizzardi orizzonti contemporanei danteschi tra occidente e oriente Erminia Ardissino è docente di letteratura italiana all'università di Torino e tra i suoi ambiti di ricerca ci sono appunto Dante la letteratura italiana del rinascimento dell'età barocca e la civiltà letteraria europea pubblicato studi e saggi che spaziano da Dante Petrarca l'umanesimo a Tasso fino all'età barocca e all'ottocento con incursioni su Manzoni per gli studi danteschi ha pubblicato due volumi tempo storico e tempo liturgico nella commedia di Dante e l'umana commedia di Dante Bianca Maria Rizzardi invece è professore ordinario di letteratura inglese all'università di Pisa dove insegna appunto letteratura inglese e letteratura dei paesi di lingua inglese e i suoi ambiti di ricerca sono appunto Shakespeare di Elisabethiani la poesia romantica e tardo-vittoriana e gli studi postcoloniali gli interessi di studio e di ricerca di Bianca Maria Rizzardi spaziano anche verso ambiti che vedono in dialogo la letteratura con altre arti come mostra il recente saggio da lei curato insieme a Giovanni Bassi la luce e l'inchiostro scritture e fotografie e fotografie in dialogo quindi tra letteratura e fotografia la parola quindi a voi bene buongiorno prendo se Erminia permette prendo la parola per prima per un accordo tra di noi prima di tutto ruverò solo un secondo ma è un secondo importante per me che desidero ringraziare le colleghe e i colleghi dell'ADI per avermi dato questa bella occasione cioè di essere con voi oggi in particolare grazie di cuore ad Alberto Casadei e a Gino Ruozzi dunque da quello che abbiamo sentito in questi ricchissimi interventi che si sono susseguiti da ieri Dante è dunque inevitabile ora quello che Erminia ed io ci siamo proposti di fare è verificare la concretezza della sua recezione anche in un ambito direi extra europeo in questo nostro mondo globalizzato insomma per quello che sono i miei interessi e soprattutto per quelle che sono le mie competenze cercherò in un tempo limitato quindi ovviamente purtroppo sarà solo un inizio di uno studio che mi prefigo di fare insomma di continuare proverò a darvi un'idea di quello che significa la presenza di Dante oggi soprattutto nei paesi di lingua inglese ora provo a condividere ecco non so se si vede sì bene perfetto dunque a Graz quando la platea iniziò ad ascoltare il premio Nobel John Cazia rimase sorpresa il titolo eliotiano what is a classic che cos'è un classico gli aveva tratti in errore se nel 1944 Eliot sosteneva che la civiltà dell'Europa occidentale unica discende da Roma attraverso la città di Roma il sacro romano impero e il suo classico originario è l'epica di Roma l'Eneide di Virgilio alla fine del nuovo millennio la voce di Cozzi si contrapponeva ideologicamente rivendicare un'identità europea e romana parole di Eliot capace di includere e trascendere al tempo spesso l'identità londinese inglese anglo-americana quella tendenza a individuare in Enea l'allegoria della propria stessa vita nell'Eneide un riferimento per dare senso all'epoca presente e in Virgilio il solenne Death Master dei Four Quartets suonano a Cozzi come rigide profezie per attribuire all'Europa un supporto storico conservatore il discorso il discorso dello scrittore sudafricano naturalizzato australiano invertiva la rotta il classico si chiede si i grandi dell'antichità in primo istante possono e devono creare o rivendicare un'identità per definire un classico Cozzi indirizza lo sguardo invece all'effetto e lo fa raccontando che in una domenica pomeriggio nel 1955 ancora ragazzo si era casualmente imbattuto in una registrazione del clavicembalo ben temperato di Bach mentre vagava annoiato nel giardino della sua casa situata alla periferia di Cape Town in quel momento di rivelazione egli stava cito vivendo l'effetto del classico I was undergoing the impact of the classic era lo spirito di Bach che gli parlava attraverso i secoli oppure una nuova profezia quella che gli indicava il suo destino nel quale Bach era semplicemente il punto di partenza di una carriera che lo avrebbe portato a trattare di lui ora in una solenne conferenza le domande sottilmente ironiche ne comportano di più pressanti come fu che Bach divenne Bach in che modo un classico si lega la storia come sopravviva ad essa e attraversando i secoli si tramanda un individuo storicamente determinato ancora altre contraddizioni si collegano al rapporto tra classico e barbaro o tra il concetto di classico e quella che lui definisce la posizione della critica al servizio dell'astuzia della storia in quel crogiolo di interrogativi inediti per Elliot Cozzi giunge proprio a Dante Dante è un classico perché congiunge la propria riconosciuta universalità alla marginalità del barbaro rimuove i confiniti a questi due poli e sopravvive al di là del desiderio della critica di trovare in esso una matrice necessariamente identitaria e unificante la funzione del classico nella letteratura posconariale è quella espressa con ironia dalla canadese Linda Hutchin non è mai un ritorno nostalgico scrive Linda Hutchin ma una rivisitazione critica un dialogo ironico con il passato nel panorama delle letterature e delle culture di lingua inglese parte molto ampia di questo nostro globo e di questo nostro tempo si individuano interessanti riusi del modello dantesco si tratta di contesti culturali di prospettive letterarie ben lontani da quelli tipicamente occidentali e che nel loro insieme al di là della specificità linguistica e persino al di fuori di quella condivisibilità come si è detto latino cristiana evocata da T.S. Eliot affermano il valore il valore universale della poesia dantesca se come ha giustamente sottolineato Alberto Casadei l'insieme del modello dantesco nel corso del ventesimo secolo è diventato sempre più presente in forme di affinità o viceversa di differenziazione elettive ciò è particolarmente vero in ambito postcoloniale contemporaneo in cui nonostante la lontananza di paradigmi culturali di condizioni storiche l'universalità in vari sensi e la potenza visiva anche visionaria continuano ad affermarsi quali fattori determinanti per giustificare la forza della poesia dantesca anche nel mondo delle letterature di lingua inglese ponendo dunque mente all'altro polo in Australia dove fu fondata la prima società Dante Alighieri del mondo dei paesi di lingua inglese a Melbourne nel 1896 sette anni dopo quella fondata in Italia da Josue Carducci prima della trasposizione della Divina Commedia composta dal poeta John Kinsella in un cortile di Perth nel ventunesimo secolo di cui ci parlerà Ermini Ardassino si incontra una rielaborazione della nuova vita dantesca da parte dello scrittore pluripremiato e pluritradotto David Malouf nel romanzo d'esordio in qualche modo autobiografico John del 1975 collocato in una Brisbane ai tempi di guerra descritta come uno spazio infernale di noia narra la complicata relazione tra due ragazzi John intelligente spericolato instabile selvaggio il protagonista principale di cui si conosce solo il soprannome Dante Dante saggio posato profondo stimato per i suoi successi accademici richiamati in Australia dalla morte del padre Dante si imbatte in una fotografia di John amico di lunga data e la fotografia suscita in lui tanti ricordi che lo inducono finalmente a scrivere la storia di John a partire dal primo incontro alla Brisbane Thomas School fino ai giorni che da adulti trascorsero insieme a Parigi personaggio complesso pieno di inspiegabile rabbia dall'umore sempre cangiante difficile da comprendere audace impossibile imprevedibile John è affascinante anche se suscita contrapposte reazioni ora pur lontana dalla trama del poema dantesco sorprendono in tutto il romanzo le tante puntuali citazioni tratte dalla divina commedia che orientano puntualmente la narrazione altra diversa è l'ambizione della neozelandese Jan Kemp nata a Hamilton nel 49 che nella sua poetica vuole e riesce a fondere la visione del mondo avorigeno con quella occidentale classica giungendo ad un'insolita combinazione di riferimenti locali storici mitici e letterari che lei ci riesca o meno attingendo ampiamente al paradiso dantesco se il risultato sia effettivamente possibile nel suo Dante's Heaven l'immagine di Dante e Virgilio che escono dall'inferno per trovarsi in un purgatorio di luce antipodea resta assolutamente indelebile Jan Kemp qui propone la parte finale dell'inferno in cui Dante e Virgilio risalgono dalla profondità dell'Ade per riemergersi in un emisfero umido sulle coste della montagna isola del purgatorio e si ritrovano di nuovo a vedere le stelle e tra queste vi sono Dante ci dice all'inizio del purgatorio quattro stelle non viste mai fuori che la prima gente e così Kemp immagina Dante nelle vesti di Kewp Tasman o Cook che sono rispettivamente uno scrittore maori un olandese il terzo inglese della Nuova Zelanda in Maori Nuova Zelanda è Ayo Teara che guarda la croce del sud brillare sopra il South Seas il sud di Dante esplora dunque questa esperienza neozelandese tutte e due aperte e anche un passaggio per dire poesia siamo tutti dei nuovi arrivati in omaggio a Dante ma anche a coloro che sono i cartografi spirituali dello stesso paese cioè gli scrittori contemporanei Un uomo nasce alla riva dell'Indo e qui vi non è chi ragion di Cristo né chi legga né chi scriva la commedia la risposta alla commedia dantesca in India è Savitri il poema evico più lungo scritto in inglese composto da 24.000 versi sciolti l'autore è il poeta bengalese Siria Rubindo Gose uno dei filosofi più importanti del ventesimo secolo Petrarca scrisse il suo poema Africa in latino e analogalmente a Rubindo sceglie l'inglese come medium del suo canto epico in cui amplia leggenda originale del Mabarata trasformando in un simbolo l'anima dell'uomo rappresentata da Setiavan che è liberata dalla morsa della morte e dall'ignoranza attraverso l'amore e il potere della divina madre incarnato sulla terra come Savitri è proprio per scrivere e descrivere tutto questo a Rubindo attinge la poesia dantesca riconoscendo da subito in Dante il potere di attraversare età e culture il potere di attraversare occidente e oriente passato e presente la utilizza come un mezzo per esprimere la totalità dell'esperienza umana piuttosto che indugiare sulla sua frammentarietà il caso di Sria Rubindo e Dante mette in discussione il grande mito critico di un'Europa materialista contro un'India religiosa tanto discusso per esempio da Said in quanto il maggior poeta metafisico dell'India del ventesimo secolo scopre nel Dante europeo l'epitome spirituale della sua stessa poesia collocare Rubindo al fianco di Dante amplia l'orizzonte dell'influenza dantesca enfatizzando la risonanza internazionale della sua poesia e solleva anche una serie di domande sulle relazioni letterarie nei periodi coloniale e postcoloniale sull'interconnessione di culture di politiche e sul linguaggio simbolico universale la connessione tra Rubindo e Dante dimostra come la letteratura veicoli le relazioni transculturali in cui le differenze storiche geografiche ma anche linguistiche siano marginali rispetto agli scopi letterari condivisi dagli autori il tributo e la stima di Rubindo per il suo precursore indiano continuano anche negli scrittori indiani contemporanei se da una parte Rubindo aveva fatto di Dante il modello della poesia religiosa in quanto cito Dante aveva accolto i motivi della cristiania cattolica grazie 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 sentite no no non si sente no non si sente c'è un problema Bianca Maria c'è un problema non sentiamo l'audio è attivo ma non sentiamo c'è un problema mio ma no evidentemente no no è con credo che non può uscire e rientrare credo di sì perché se è un problema di connessione forse la cosa migliore è uscire e rientrare sì bene ma aspetta chiamiamola al telefono se non ho bisogna comunicarglielo via chat aspetta no al telefono no sta provando a gestire l'audio vediamo ora ora si è bloccato anche il video sì apparentemente sì passo passo ho passato ho cambiato un attimo finché Bianca Maria Rizzardi riesce a sistemare la situazione tentiamo Angelo vuoi che proviamo a vedere se Erminia riesce oppure si aspettare io posso intervenire però era un po' in chiusura quindi però io faccio quello che mi dite forse conviene aspettare un attimo il tentativo di connessione d'accordo Angelo accidenti peccato mi sembrava tra l'altro particolarmente divertente questo fatto di partire da da Elliot uno statunitense naturalizzato britannico passare per Coetzee un sudafricano naturalizzato australiano e poi fare il giro del mondo con Dante era divertente ma evidentemente la tecnologia non ci assiste è più facile fare il giro del mondo culturale con le idee occidentaccio lo peccato veramente forse è l'inglese più universale di internet forse è parlare di Rashti che non ha portato bene ah soppi è vero c'è la maledizione ah è vero è vero è vero è vero è vero passiamolo direttamente è stata tolta la fatua è stata tolta è stata tolta è ma là il satanismo non è apprezzato da Dante evidentemente però vi ricordo che anche Stefano ha affrontato impavidamente qualche nominazione ah ma allora ti ricordi non visto facevo le corna ah sì guarda io ricordo sempre una cosa di eccola eccola esatto tantissimo eccoci ti prendiamo allora perdonatemi no niente colpa di Rashti dai è lui sono e senz'altro è questo dunque eravamo rimasti se non ricordo male a Rushti no? sì sì scusatemi sto cercando di ecco vedete sì 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 adesso scusate allora vi dicevo appunto che solo per fermare un esempio il romanzo the ground beneath the feet di 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 traducendo l'amore trasfigurato di dante a beatrice in un regno umano presenta l'eroe ormus kama quando incontra casualmente il grande amore della della sua vita vina apsara lei aveva nove anni su una spiaggia di bombay e come dante il protagonista trascorre il resto della vita cercare di raggiungerla nonostante vina sia coinvolta sentimentalmente con altre persone e muoia prematuramente anche la loro è la storia di un amore che li insegue per tutta la vita e anche dopo un altro romanzo altro romanzo in the stone woman dello scrittore anglo-pachistano Tarik Ali terzo romanzo del suo Islam Quintet il ricordo lirico di Francesca del suo momento d'amore è l'occasione per una discussione filosofica sulla natura dell'amore da parte di un omosessuale che rispetto agli altri personaggi del romanzo è l'unico ad avere una relazione sentimentale durevole ascoltando l'intera lettura delle parole di Francesca recitate in italiano dal suo compagno di una vita cito i lineamenti si colmarono di tenorezza il personaggio approda dunque ad una affermazione rivelatrice e conclude dicendo quel fiorentino era proprio un genio tra i contemporanei che stanno in piccioletta barca desiderosi di ascoltare e su un piano strettamente etico fondamentale la possibilità di un percorso purgatoriale per Simussini irlandese Nobel per la letteratura nel 1995 è un attento interprete del rapporto con la grande tradizione antica e moderna che per sua stessa missione non sarebbe mai stato un poeta senza l'esempio di Dante Alighieri Chini tradusse in inglese le terzine dantesche con una stupifacente intelligenza filologica e creativa un esempio fra i tanti quel verso I Pisa vituperio delle genti del bel paese là dove si suona che lui rende con i suoni sibilanti adatti a una città traditrice come un serpente che sfrigola nell'erba Pisa Pisa tradusse i primi tre canti dell'inferno intorno all'82 83 anche se la prima traccia dantesca la si trova nella raccolta del 79 Fieldwork da allora Dante divenne per lui una risorsa primaria e fondamentale e si configura nello sforzo e nell'impegno della sua poetica quale vero viaggio dantesco nella raccolta di poesie Nod Hini compone un'ampia rassegna di immagini infernali corpi torturati minute descrizioni di anfratti del mondo sotterraneo in una generale compatta oscurità di toni i corpi trovati nella palude di Aras in Danimarca diventano la metafora perfetta per descrivere le infinite violenze e le ostilità dell'Irlanda del nord in North probabilmente il libro poetico per l'eccellenza di Hini l'autore riesce attraverso Dante a proporre la questione irlandese nel divenire dei secoli e dei millenni non dell'attualità o dei decenni incastonandola nel mondo celtico delle incisioni su roccia e dei sacrifici umani grazie a un linguaggio asciutto e godibile i corpi degli antenati conservati intatti dalla torbiera parlano di se stessi come nella commedia dantesca e anche come in una specie di Spoon River preistorica e possono perfino narrare del presente e del futuro come in un monologo drammatico di Robert Browning in definitiva Hini in North riesce proprio il miracolo della scrittura poetica un tempo avvincente e distaccata dove il dato scientifico biantropologico si fonda la pietà lirica e la spietatezza narrativa il suo è un Dante decisamente calato nella storia come dimostra il tragitto di pentimento purgatoriale orientato anche dalle precise citazioni dantesche rispetto alle faide luttuose dell'Irlanda del Nord rappresentato nel volumetto Station Island la cui sezione centrale è modellata sulla terza rima dantesca il titolo del volume Station Island appunto è intraducibile trattandosi del nome proprio di un'isoletta situata nel centro del piccolo lago irlandese di Derg il lago rosso un'isola meta di pellegrinaggi fin dall'alto medioevo dopo che San Patrizio ispirato da Dio tracciò col suo bastone un ampio cerco proprio del cuore dell'isola e la terra si staccò e sprofondò per divenire l'entrata del purgatorio chi vi fosse entrato avrebbe potuto espiare le pene del purgatorio da vivo ma pochi di coloro che decisero di sottoporsi alla prova ne uscirono vivi il rosso del lago è rosso di sangue sangue di mostri d'acqua e serpenti uccisi da San Patrizio memore dei pellegrinaggi compiuti lì nell'infanzia con i numerosi fratelli Chini struttura la sezione centrale del libro in dodici parti come dodici votive stazioni e Station Island si attaccia e Station Island è anche un viaggio che il poeta compie nel fondo della propria coscienza del proprio personale purgatorio cercando di rispondere alla domanda how should a poet live and write e scrivere un poeta per sé nella Torre d'Avorio o nella comunità condividendo nelle ansie e pericoli Chini sceglie di trasferirsi da Laster nel più tranquillo aere dublinese e di non scrivere in gaelico ma in inglese Simus dantescamente cerca così di risolvere il proprio conflitto depurandosi nel viaggio catartico compiendo di nuovo da adulto il pellegrinaggio votivo dell'infanzia ingenua è un pellegrinaggio al contrario attraverso un incontro onirico ma realistico con amici parenti morti nei tragici conflitti che induce l'io del poeta a un'affettiva metanoia il flusso dei pellegrini prende simbolicamente a venire verso contro di lui quasi a significare che il poeta abbia scelto di restare al di fuori del greggio eppure sia contatto con tutto altri sono sarebbe interessante vedere anche in altri autori ma per ragioni di tempo preferisco ecco parlarvi di questo cioè come nella recezione contemporanea della commedia l'associazione tra la rappresentazione simbolica di Dante nella Firenze del XIV secolo e la conduzione postcoloniale e post-schiavitù è indubbiamente molto frequente Dennis Looney in Freedom Readers The African American Reception of Dante Alighieri in Divine Comedy ha documentato quanto l'influenza dell'opera di Dante nella cultura afroamericana sia innegabile e molti sono gli studi che trattano Age of Iron di Cotzi sul rapporto per questi studi che hanno evidenziato i riflessi del periodo post-apartheid in Sud Africa i riflessi danteschi la distruttività di un'epoca che ha generato ormai innumerevoli inferni è esemplificata in molti racconti allegorici oltre alla scrittura pittura fotografia scultura video installazioni performance sono i vari linguaggi utilizzati per raccontare questa commedia molto più terrena che divina esemplare è questa mostra che è stata allestita qualche anno fa al museo di Francoforte paradiso inferno purgatorio gli artisti africani interpretano la divina commedia dove occupa un ampio spazio per esempio il dramma dei migranti morti in mare nel tentativo di raggiungere l'Europa raffigurati dallo scrittore ivoriano James Robert Kokoby in una barca piena di 80 teste di legno scuro che evoca la barca con cui Caronte trasportava le anime attraverso l'ostige la distruttività è addirittura ipostatizzata in una serie di equivalenze precise della realtà reale di una città New York che è diventata la presunta capitale del mondo ma è per sempre fatta di gironi ricolmi di reietti e di peccatori è l'immagine che emerge da The System of Dante's Hand inedito in Italia romanzo denuncia di Roy Jones ovvero lo scrittore afroamericano Amiri Baraka cantore del popolo del blues e nel contempo risoluto oppositore del sistema capitalistico se oggi la denuncia può sembrare sin troppo motivata è importante notare che Baraka abbia deciso di far riferimento al paradigma dantesco che allora fra i bianchi statudetensi di cultura medio alta rappresentava la divisione più chiara in colpe e pene comprese quelle ingiustimente subite per la peculiare presenza dell'inferno dantesco The System of Dante's Hell di Amiri Baraka si colloca a metà tra due romanzi afroamericani che sono molto interessanti per un accostamento dantesco suggerito dagli stessi autori poi mi riferisco ad Invisible Man di Ralph Ellison e a Lyndon Hills di Gloria Naylor di grande interesse poi è il caso dello scrittore poeta digeriano di lingua inglese Ben Ocri il suo Atonishing the God scala il protagonista un uomo invisibile nel paese degli uomini visibili per capire perché la invisibilità non sia prevista romanzo metaforico Io sono invisibile affida l'invisibilità il simbolo della negritudine della condizione dei neri in opposizione alla civiltà bianca e capitalista il protagonista del libro si avventura dopo aver fallito la sua ricerca nel regno dell'invisibile qui trova creature che esaltano il valore della trascendenza e dell'amore universale fra palazzi splendidi d'aria di marmo e d'acqua angeli unicorni e ponti di fiamma il protagonista compie un cammino dantesco iniziatico verso l'immaterialità e la perfezione dello spirito in un mondo ideale nelle cui cito banche si depositano pensieri gioiosi sebbene molto diverso per la piena valorizzazione dell'opera dell'esperienza diretta e per le forti denunce della faziosità e delle guerre civili il romanzo di Cozzi Age of Aaron Età di Ferro appare particolarmente in linea con lo spirito di Dante e non solo per le puntuali evocazioni della porta dell'Ade Haze displays an eye a fugitive shade la voce narrante Elizabeth Curran è un'insegnante bianca di letteratura classica in pensione con tendenze politiche moderatamente liberali nonostante l'odio nei confronti del governo nazionalista africaner lei stessa ha fatto parte di quel sistema scolastico e quindi non può evitare il peso e la consapevolezza della sua complicità con l'apartheid situazione analoga a quella di Dante con la sua Firenze una malattia terminale o un viaggio verso una più diretta ed autentica conoscenza degli strati più bassi della società nera la porteranno a rivedere sia le proprie idee politiche sia la sua vasta esperienza dei classici della storia in lei il percorso provocherà impulsi contrastanti da una parte la tendenza a ritirarsi all'interno di testi familiari e di strutture ideologiche e dall'altra la spinta a confrontarsi e ad ammettere la propria responsabilità per le sofferenze degli altri una condizione contrastante espressa espressa attraverso l'uso della commedia di Dante che funziona come esempio di cultura alta europea a cui opporsi e come modello di autoanalisi di confessione da seguire oltre che da parodiare infatti l'uso parodico che così fa di Dante è ambivalente proprio nel senso delineato da Linda Hutchin perché è caratterizzato sia dalla ripetizione che dalla differenziazione e mentre la narrazione evidenza il valore del viaggio al di fuori del territorio razziale bianco e dello spazio ideologico eurocentrico le allusioni dantesche mostrano il valore della conoscenza dei testi di origine europea che così sta usando e rivedendo in ultimo e non in ultimo onoriamo l'altissimo poeta la voce di Omero saluta Virginia nel quarto canto della commedia di Dante e riecheggia nelle piccole antille per rendere omaggio ad Eric Walcott il Dante dei Caraibi mar di tutto il senno la commedia dantesca è una ricca fonte di citazioni allusioni parallelismi formali e tematici per la sua poesia e tale si mantiene in tutto l'arco della sua carriera fissando tre momenti della sua opera dove è presente il controcanto dantesco io li fisserei con Epitaph for the Young pubblicata a Barbados nel 1949 quando Drake Walcott aveva 19 anni Another Life iniziato nel 65 ma terminato poi nel 73 e Omeros pubblicato nel 1990 la prospettiva del premio Nobel Antillano nell'opera più emblematica Omeros è riconducibile a un fondamento epico nell'esistenza di umili personaggi dei carabili pescatori o commercianti che assumono nel poema racconto Omeros i nomi e quindi la possibilità possibili identità di grandi eroi classici da Achille a Ettore a Elena il modello omerico è intersecato con molti altri della cultura occidentale ottimamente conosciuta da Walcott e fra questi spicca Dante che fornisce un puntello metrico il poema è scritto in terzine sia pure molto più liber di quelli della commedia ed è citato per sottolineare la valenza antropologica religiosa di alcuni episodi così dopo che nel decimo capitolo del primo libro una zona dell'isola di Santa Lucia è descritta come un luogo dei morti dove holes of boiling lava bubble in the malebolge buchi di lava bollente gorgogliono nelle malebolge nel venticinquesimo capitolo del terzo libro assistiamo a un incontro fra il nuovo Achille e il padre Afolambe incontro che si svolge nel cuore dell'Africa terra di origine e insieme terra dei morti la ricerca di una condizione ancestrale tra ritualità arcaica e consapevolezza del tempo che è ormai passato conduce a un'ulteriore lettura del poema d'astesco spazio testuale in cui si possono incontrare persone con un destino ormai deciso i personaggi di Walcott desiderano capire quali possono essere i caratteri primordiali della loro condizione biologica antropologica non per mera sete di conoscenza bensì per comprendere a cosa è servito il distacco drammatico cui sono stati sottoposti e di cui portano tracce indelebili nel linguaggio oltre che nei corpi lo stesso Walcott ha esaltato in varie dichiarazioni sia la capacità di Dante di delineare personaggi credibili pur nella rapidità della loro descrizione sia quella di usare registri toni diversi senza limitazioni a prioristi è lui stesso a dichiarare lo scopo della poesia dopo tutto e al di là di tutto è di glorificare Dio se in luogo della parola Dio usi la parola luce cosa che succede di continuo in Dante puoi capire come la poesia non sia altro che un atto celebrativo un gesto di gratitudine forse talora un gesto di sconcertato stupore la grande poesia riguarda qualcosa che si trova al di là della nozione di mortalità come ci insegna Dante appunto come ci insegna Dante un punto di riferimento che con la sua poetica mette in scena l'enorme spettacolare crescita degli aspetti cosiddetti appetitivi dell'umanità e ne riverbera il fascino infinito e irresistibile che nessun potere umano e divino potrà mai fermare la fortuna di Dante oggi si deve alla capacità di interessare poeti e lettori con le sue storie di uomini e donne e vicende convulse e con la sua visione universale appunto rappresentazione nitida dell'aiola che ci fa tanto feroci grazie bene prendo la parola per chiudere con la considerazione di due opere da una parte il romanzo gli anni della nostalgia del giapponese Kenzaburo dall'altra come era stato annunciato la raccolta di poemi di Vine Comedy dell'australiano John Kinsella Kenzaburo è ben noto nella storia letteraria giapponese mondiale non solo per aver ricevuto il premio Nobel nel 94 ma soprattutto per aver rinnovato la narrativa del suo paese e per aver affrontato temi spinosi come l'handicap la malattia le repercussioni che danno nella vita individuale aspetti che gli pone al centro di molte delle sue narrazioni a questa sua opzione gli intreccia vigorosamente la poesia di Dante il romanzo di cui mi sono occupata è uscito nell'87 tradotto in italiano nel 97 e narra di due giovani che è la voce narrante in qualche modo un ritratto autobiografico e il fratello Ghi fratello è un termine attribuito dall'autore in realtà sono solo amici che rivela l'autore che come rivela l'autore è indentato e costituisce in qualche modo l'alter ego di Kei è ambientato nel Giappone tra gli anni 50 e gli anni 80 del secolo scorso inizia nella difficile transizione verso la contemporaneità dopo il disastro bellico e l'occupazione americana si situa in un luogo immaginario un villaggio collocato nell'isola di Shikoku villaggio rurale ai bordi della foresta e la capitale Tokyo dove si svolge la carriera universitaria da studente e poi da docente della voce narrante la storia è costruita sul presente con molte analessie attraverso cui si ricostruisce l'itinerario dei due giovani che si frequentano fin dall'adolescenza spesso le analessie sono proposte in forma di lettere o come trascrizione di conversazioni telefoniche da qui il titolo che vale letteralmente come lettere dagli anni della nostalgia o lettere dagli anni più cari Ghi personalità carismatica capace di influenzare profondamente il protagonista nel romanzo il portatore di un messaggio di responsabilità che trova nella poesia di Dante il suo appoggio e lui riconosciuto maestro di vita che fa conoscere Dante al protagonista dichiarando che questo è l'autore della sua vita cui dedica anche molta attenzione critica ne recita spesso i versi nel senso che sono poi citati quindi ci sono anche lunghissime citazioni di Dante dalla poema precisando che vengono dalla traduzione dei Zaburo Yamakawa la prima traduzione giapponese del poema che risale più o meno a un secolo fa cioè del 1914 e l'inferno del 22 e il paradiso lo studia anche attraverso i maggiori interpreti particolarmente quelli della critica anglosassone degli anni 70 cioè John Freccero Patrick Boyd e Giuseppe Mazzotta facendo diventare la dantistica protagonista del romanzo due saggi di Freccero sono addirittura i motivi conduttori dell'ultima parte Dante non è il solo scrittore con cui il romanzo dialoga infatti la narrazione che riguarda la presa di consapevolezza e la costruzione dell'identità dei due giovani dialoga con molti autori occidentali Yeats Dostoyevsky Malcolm Lowry Shakespeare Rabelais ma Dante è determinante e occupa sicuramente il posto principale anzi si può dire che la poesia di Dante e la sua ricerca dei valori della vita dell'oltremondo siano un leitmotiv nella storia dei due protagonisti Dante entra in scena presto già nel secondo capitolo in relazione alle riflessioni sul legame che il villaggio e i suoi abitanti hanno con la foresta i miti che il villaggio ha elaborato sugli alberi di quel bosco e sul magnetismo che essi esercitano sugli stessi abitanti specie quello che vivono nella zona dei confini trova ragione profonda nel mito del tredicesimo canto dell'inferno con l'episodio di Pier delle Vigne dei suicidi che abitano gli alberi del girone in esso nessun cenno viene fatto alla possibile fonte delle neide Ghidi Ghidi vede non solo un modo per dar vita umana agli alberi quindi per giustificare i miti e le storie locali ma anche una forza vitale che deriverebbe dall'aggregarsi nell'albero dei quattro elementi basilari di Empedocle una forza che distribuisce gli atomi anche nell'universo gridando poi vita ai morti è infatti anzitutto il problema della morte e della vita dopo la morte è quello che guida i protagonisti verso Dante l'episodio di Pier delle Vigne si aggancia con la credenza del luogo che e cito lo spirito dopo la morte si separa dal corpo e sale in cielo volteggiando come un aereo poi ridiscende per accomodarsi ai piedi di un albero a lui assegnato e rimanere lì per sempre alla costruzione di questa identità locale e collettiva molto contribuisce per confessione stessa dell'autore la metodologia degli aborigini australiani che Oe ha avuto modo di conoscere in un periodo di insegnamento trascorso in Australia secondo una loro credenza la morte appare come l'occasione per ritorno e citole all'eterno tempo del sogno ovvero a quel tempo originario in cui sono accadute le cose importanti un tempo di felicità in cui piante animali umani erano in felice armonia anche per queste credenze la foresta è il centro del mondo e ha una sua sacralità essa è il luogo del sogno quindi vive al di fuori dal tempo ed è eterna come le storie della valle e dei confini del villaggio di Shikoku dicono come anche Dante fa con la foresta dei suicidi Dante quindi dà voce al protagonista per scrivere come e cito abitante della foresta spirito sano tipico del villaggio nella valle tanto voce quindi alla collettività nell'intervista che rilasciò a Maria Corti nel 94 Oe rivelò che Dante lo aveva influenzato in modo profondo a diversi livelli infatti il poema come la critica sul poema fornisce ispirazione non solo per le scelte narrative ma anche per il rinnovamento della cultura in quanto consente l'autore la condizione di straniamento che gli permette poi di vedere e di dire le tradizioni popolari i versi di Dante divengono gli strumenti di mediazione per porre i miti locali nel contesto globale per cui necessitano di una radicale assoluta autonomia dello spirito questa novità determinata da Oe nella storia letteraria giapponese ben riconosciuta dalla critica nell'intervista che lo scrittore concesse a Ozaki Mariko più tardi nel 2007 confessa che proprio questo fu il romanzo in cui egli cambiò tipo di scrittura integrando le letture in lingue straniere con la lingua giapponese Dante infine la guida di una conversione che si accompagna alle riflessioni del ligno narrante sulla commedia che lo porterà a mutare adecciamento verso il figlio e la famiglia a proposito sono proposte alcune considerazioni sul ventisesimo dell'inferno con estese citazioni dal saggio di Freccero su Ulisse Dante su Ulisses from epic to novel era il titolo che è anche un commento alle teorie di Lukacs in cui il grande teorico ungherese afferma la coesistenza nel poema dei due generi epica e romanzo e quindi di due tipologie di narrazione e di protagonisti Oe coglie l'indicazione di Freccero che la visione cristiana di Dante fa coincidere le due modalità epica e romanzesca in una sola prospettiva circolare dove non c'è termine per il racconto perché il protagonista dà vita a un nuovo inizio che riflette la circolarità della storia il naufragio di Ulisse diventa nel romanzo di Oe paradigmatico dei fallimenti del protagonista che copia metà del canto di Ulisse dal verso 94 alla fine ovvero dal verso né dolcezza di figlio né la pieta eccetera eccetera versi che lo inducono a riflettere sul suo ruolo in famiglia da questo nasce quell'irrazionale pentimento quell'aura di dolore sono parole dello scrittore che lo portano a una nuova consapevolezza a una rinnovata dimensione di scrittore e cito dal romanzo la nascita di un bambino deforme di cui avevo scritto in un'esperienza personale che è stato tradotto sempre da Garzanti nel 96 in seguito mi impose un problema da risolvere un problema al centro non solo della mia vita privata ma anche di tutti i romanzi che avrei scritto la convivenza con un figlio handicappato sebbene molto diversa l'opera dantesca del poeta australiano John Kinsella ha molti elementi in comune con quella di Oe anzitutto anche qui abbiamo miti aborigine sugli alberi quindi la presenza di una foresta ai confini di un villaggio rurale del sud ovest del continente tra una zona abitata e una zona naturale con la sua flora e fauna peculiare e i loro miti anche qui abbiamo lo sguardo rivolto a questo sistema qui coscientemente ecosistema è in pericolo a cui l'autore presta attenzione focalizzandosi sul locale sul minimo elemento per valorizzarlo e salvarlo anziché su grandi prospettive globali anche qui l'osservazione e la poesia che ne deriva con la determinante presenza di Dante è indirizzata a nuova etica a un ripensamento del modo di vivere e delle scelte individuali e collettive John Quincell è ben noto nel mondo anglosassone basti dire che ha al suo attivo più di 20 raccolti di poesia una decina di opere di narrativa drammaturgia alcuni testi di poetica in Italia le sue poesie sono state tradotte da Maria Cristina Biggio e pubblicate da Raffaelli Editore l'opera Divine Comedy è suddivisa nelle tre parti canoniche del viaggio nell'aldilà che scandiscono la suddivisione delle tre cantiche ma il viaggio infatti il titolo e il sottotitolo è Joyous National Geography è variato già nella struttura perché inizia con il purgatorio passa attraverso il paradiso e termina con l'inferno la variazione è dovuta proprio alla natura terrena del viaggio che ha come riferimento la regione occidentale dall'Australia e inizio nella zona più familiare al poeta il giardino di casa ai piedi del monte Valvalini o Bayquel per poi considerare l'arcadia australiana la campagna intorno e include infine anche l'inferno della periferia di Perth segnata pesantemente dalla speculazione edilizia la prima sezione focalizzata il sottotitolo è Purgatorio Up Close sul monte Valvalini che ha la parvenza del morte purgatoriale per trovarsi nell'altro emisfero rispetto a noi e per avere in cima una specie di paradiso terrestre un parco di divertimenti la seconda parte intitolata Paradiso Rupture dichiara immediatamente la condizione di paradiso perduto infatti infine l'inferno un esito obbligato dal titolo ossimorico Inferno Jesus Center che rappresenta una condizione psicologica anche di luoghi in certe condizioni nella prefazione si afferma che la prima cantica di Dante appare al poeta come un modo per dare forma a tutti i peccati umani reali o immaginari come parte di noi almeno potenzialmente per quei piaceri distruttivi dell'ecosistema le tre cantiche di Quincella sono suddivise a loro volta in canti composti da terzine nell'insieme la raccolta appare sotto forma di una sinfonia di canti anche dal punto di vista stilistico l'affinità è evidente per Quincella come per Dante si può parlare di plurilinguismo perché ambedue associano termini tecnici a termini altamente letterari a parole del linguaggio quotidiano si può sottolineare pure l'adozione di uno stile umile e basso come nel poema dantesco Quincella in un recente video ha sottolineato l'attrattiva che esercita su di lui e sulla sua poesia e la fisicità della parola dantesca la sua efficacia che si percepisce quasi fisicamente la poesia di Dante gli suggerisce appunto stati d'animo che sono impiegati per dire le nuove angosce ecologiche la nostalgia di una foresta perduta è come la nostalgia di Francesca per il tempo felice nella miseria le somiglianze poi non sono solo formali c'è un viaggio c'è anche una guida Tracy che è insieme Virgilio e Beatrice e sorprendentemente dedicata anche una terza guida il jazzista Louis Armstrong che dice con il suo jazz libera dalle paranoie c'è poi la realtà locale ovvero il luogo specifico che fa da sfondo a cui si riferiscono gli eventi i dialoghi le osservazioni si tratta della sua regione la Wheatbelt del nord ovest australiano con ovi addentellati alla realtà del pianeta Kinsella indica la foresta come luogo di rivelazione e anche liberazione profondamente ancorato al mistero e alla paura ma questo tema la foresta è un modo per Kinsella di accedere al vero problema ovvero la deforestazione e sostenibilità del pianeta affrontati anche attraverso una riflessione antropologica e letteraria in questo mondo circoscritto sono inclobati poi gli aborigeni i Ballardong Myunger People un riferimento costante per Kinsella sia che nomini i luoghi sia che ne ricordi i miti e le leggende ma i nativi rappresentano anche il popolo sottomesto di quel luogo visto come paradiso perduto per colpa appunto dei colonizzatori obiettivo dichiarato fin dall'apertura è quello di occuparsi di una piccola porzione di terra in un certo periodo di tempo ma si tratta di un campione di realtà che proietta i problemi del pianeta intero un po' come la Firenze di Dante Dante e Kinsella sono accomunati anche da una valorizzazione della responsabilità individuale dalla ricerca di una dimensione etica da esercitare ovunque e sempre perché ogni atto umano appare gravido di conseguenze di ricadute negative su altri individui sulla compagine sociale sui grandi processi della storia perché Kinsella ancor più le responsabilità individuali si allargano a esiti che superano persino la storia per lo sguardo globale di Kinsella due solo elementi sono in gioco ma comprendono tutto la configurazione dell'antropocene con la sua potenza distruttiva e il pianeta vulnerato e vulnerabile in conclusione Kinsella appare come Oe un anti-Ulisse se Ulisse per divenire del mondo esferto lascia moglie figlio regno padre tutto pur di esplorare il mondo al di fuori dell'isola in cui gli è dato di vivere o Ekinsella sono esattamente l'opposto nella loro scrittura è proprio la realtà domestica dare luce essi optano per la dolcezza del figlio o dei figli e per il debito amor lo qual doveano le moglie far lieta e questa opzione si rivela come fonte di una conoscenza profonda di un'esperienza del mondo nutrita da un ardore non meno gnoseologico ma orientato al minimo a zoomare sulla realtà locale con i suoi abitanti prossimi che siano essi umani o non quel prossimo che sotto gli occhi ogni giorno e che necessiti di essere avvertito però non essere annientato forse l'ardore che si suggeriscono questi due testi è proprio di divenire del mondo esperti delle vizi umane e del valore senza metterci per l'alto mare aperto ma approfondendo l'universo del minimo perché altro mare altra virtute e conoscenza non si dà al di fuori di questo pianeta solo voli ravvicinati e non folli la poesia di Kinsella e la narrazione di Hoy ci pongono così di fronte a un cortocircuito di grande impatto per il nostro presente una combinazione in cui si incontrano appunto il poema di Dante con il problema ecologico che ci interpella tutti e l'inclusione dei più vulnerabili ma componente essenziale sia dell'australiano sia dell'antico fiorentino sia del giapponese e la forte visionarietà e visualità della loro scrittura che propone dimensioni nuove che danno concretezza fisicità e prospettiva all'indicazione etica abbiamo intitolato questo nostro intervento orizzonti danteschi non solo perché abbiamo voluto guardare al di là dei confini della nostra cultura ma principalmente perché l'orizzonte è metafora indicante la natura umana per Dante nel terzo trattato della monarchia si legge e cito già in italiano l'uomo è il solo di tutti gli esseri a tenere una posizione intermedia tra ciò che è corruttibile e ciò che non lo è per questa ragione è giustamente paragonato dei filosofi all'orizzonte che è collocato a mezzo tra l'emisfero celeste e quello terrestre i filosofi a cui attinge Dante per questa definizione sono Tommaso d'Aquino e Pietro Lombardo ma quello che a noi interessa è proprio la dimensione altra che questa metafora suggerisce oltre i corruptibiglia c'è l'emosfero degli incorruptibiglia che sia esso il trascendente o altra modalità del tutto immanente essa suggerisce comunque che a fare da orizzonte è la visionarietà umana che ha la sua forma più alta proprio nell'espressione artistica che sia visiva musicalo-letteraria e fra di esse la visionarietà di Dante ci chiama ancora ad altri orizzonti grazie grazie davvero a Bianca Maria Rizzardi a Erminia Ardissino mi spiace per l'inconveniente che almeno a me ha fatto perdere una parte importante della relazione che era quella che mi interessava forse di più e cioè il fatto che appunto questi orizzonti danteschi vengono travalicati non soltanto in termini di tempi cronologici di spazi di geografie di lingue ma oltretutto anche di forme d'arte perché appunto il fatto che Dante possa ispirare espressioni d'arte contemporanea è un fatto assolutamente straordinario d'arte contemporanea non in Italia dove sarebbe più scontato ma in altri luoghi del mondo purtroppo la tecnologia non sempre è all'altezza delle necessità ecco io restituisco la parola a Gino Ruozzi perché immagino che sia improrogabile una pausa che comunque ci traghetti nella seconda parte di questa mattinata con l'introduzione di Pasquale Sabatino grazie Gino grazie grazie Angelo ti ringrazio moltissimo ti ringrazio moltissimo personalmente e per tutto il lavoro di collaborazione che con il Centro per il Libro e la Lettura stiamo facendo insieme quindi diciamo è un doppio veramente ringraziamento ringrazio gli autori di queste bellissime relazioni perché c'è veramente l'universo il mondo insomma danno un respiro ricordo che pubblicheremo poi gli atti è vero quindi naturalmente avremo poi modo di leggere di approfondire eventualmente anche di estendere i discorsi che sono stati iniziati e quindi insomma veramente grazie perché il lavoro procede con grandissima affascinante qualità ecco io proseguirei sinceramente per evitare poi di andare fuori fuori tempo quindi chiederei all'amico Pasquale Sabatino dell'Università di Napoli è vero di prendere di prendere la parola e di condurre il prossimo il prossimo incontro appunto dedicato a Dante e allo stato dell'arte degli studi danteschi in particolare svolti dall'Associazione degli Italianisti quindi ringrazio tutti quelli che sono fino ad ora intervenuti e cedo la parola a Pasquale Sabatino grazie innanzitutto buongiorno a tutte e a tutti vorrei esprimere un mio parere questo convegno Dante e gli altri classici sta proiettando come dire Dante in questo orizzonte di cui ha parlato la collega poco fa un orizzonte multiculturale e plurilinguistico da questo punto di vista allora mi avviso questo convegno già si sta configurando come una pietra miliare per le nuove ricerche le nuove ricerche su Dante come patrimonio dell'umanità adesso veniamo al piccolo diciamo di questa sessione che mi trovo a coordinare una sessione in cui ci proponiamo di delineare un bilancio un bilancio storico critico degli studi danteschi promossi dall'Adi dal 1996 ad oggi e ci proponiamo anche di cogliere le linee del dibattito su Dante nella didattica o Dante e la didattica attraverso il resoconto delle attività dantesche promosse dall'Adi Scuola e per non perdere tempo do subito la parola al primo relatore il quale interverrà sui convegni danteschi organizzati dall'Adi e il primo relatore è Sergio Cristaldi che è professore di letteratura italiana nell'università di Catania io voglio solo ricordare brevemente alcuni testi come Dante di fronte al gioachimismo la profezia imperfetta il velto e l'escatologia medievale e infine verso l'imperio ma è tempo adesso di passare la parola al primo relatore il professore Sergio Cristaldi grazie buongiorno a tutte e a tutti l'Adi ha sempre previsto nei suoi congressi una corsia dantesca anzi un percorso a varie corsie da qualche anno a questa parte l'Adi ha anche iniziato a organizzare convegni specificamente dedicati a Dante in sinergia con sedi universitarie e ancora con accademie archivi associazioni culturali finora si annoverano tre convegni svoltisi rispettivamente a Catania 15-16 novembre 2019 a Torino 1-2 ottobre 2020 e a Lucca Sarzana 15-16 novembre 5-6 ottobre scusate 5-6 ottobre 2020 si è parlato a Catania di vita nuova e rime a Torino di monarchia e commedia il convegno di Lucca Sarzana ha messo invece a tema il rapporto di Dante con la Toscana occidentale tra 1306 e 1308 credo che le rispettive opzioni siano indice di tendenze che oggi si stanno riaffacciando negli studi su Dante veniamo da una stagione assai feconda di edizioni e commenti di opere dantesche si è costituita in questo modo una nuova base una nuova base su cui la ricostruzione saggistica può ripartire al tempo stesso abbiamo imparato da contributi veramente magistrali di anni recenti che letteratura e biografia si intrecciano in maniera assai stretta e non si può separare impunemente la prima dalla seconda come se lo scrittore fosse un'anima prima di corpo uno spirito senza geografia e senza storia di qui l'esigenza di colpi di sonda sul terreno concretissimo delle vicissitudini dantesche in luoghi e tempi circostanziati ma proviamo a scendere nel dettaglio la nostra tappa iniziale è il convegno sul Dante prima fase convegno dal titolo per riva per prosa Dante vita nuova e rime è stato promosso in collaborazione con l'università di Catania per iniziativa di Niccolò Mineo e Nia gli atti sono attualmente in corso di stampa per quanto riguarda il libello ha ricevuto conferma in primo luogo la sua potenzialità semantica la sua inesausta potenzialità semantica ed espressiva la sua capacità di rispondere alle diverse urgenze che l'interpretazione fa valere nel volgere del tempo così quest'operetta squisitamente medievale non smette di guadagnare attualità aggiungo subito che la potenzialità della vita nuova contiene germi di varia natura e di fatti trovano spunti oggi nel libello approcci di diversa indole l'approccio biografistico e autobiografistico l'interesse per le metamorfosi del romanzo l'attenzione al peso del codice biblico nella letteratura medievale l'accertamento della vicenda dei generi letterari la misurazione dell'eredità classica nel medioevo latino e romanzo queste piste sono state tutte ripercorse nel convegno per rima per prosa e sono state trovate nuovamente fruttuose grazie appunto alla disposizione plurisignificante del libello e alla sua caratteristica trasversalità votata a mettere in contatto i generi le tradizioni letterarie la cultura sacra e quella profana la vita nuova è certo complessa incapace di stare entro una sola definizione di corrispondere a un'unica cifra ma si deve vedere in questa complessità il segno di una attitudine inclusiva l'attitudine tipica appunto di Dante il quale aspira alla ricapitolazione e ne apprezza quell'alveo basilare che è la forma libro non è un caso che affronta una singola componente della vita nuova non può non tener presente anche le altre magari con la coda dell'occhio e così hanno fatto i contributi del convegno catanese sappiamo bene d'altra parte che la ricapitolazione operata dal libello adotta un perimetro stretto se Dante coopta qui poesia e prosa lirica e racconto autobiografia e ageografia profano e sacro è anche vero che individua un unico tema quello amoroso è una espressività univoca l'espressività del dolce stil nuovo portata al suo culmine si capisce che un temperamento come quello dantesco estremamente aperto e prensile sentisse il bisogno di uscire da quei confini di intraprendere una esplorazione tematica e stilistica a 360 gradi è quello che avviene con le rime le rime che dispiegano una raggiera un vasto delta con percorsi fortemente differenziati tra loro e il convegno per rima per prosa ha voluto aderire a questa mobilità pluridirezionale disponendosi a misurare in sé e per sé le diverse linee i vari bracci del delta o quantomeno i più importanti così sono state vagliate le rime satellitari alla vita nuova e quelle gravitanti invece attorno al convivio le canzoni a cavallo tra lettere allegorie e allegoria e quelle schiettamente filosofiche una mappa a stralci ma conforme al carattere non integrato del territorio di un territorio con forti contrasti interni il secondo snodo della nostra rassegna è il convegno dal titolo tra monarchia e commedia filosofia e poesia della giustizia è stato l'esito di una sinergia tra l'Adi e l'università di Torino su input di Ermini Ardissino e di Valerio Gigliotti i quali hanno convocato studiosi di diversi settori scientifico disciplinari mobilitando assieme agli italianisti anche filosofi storici del pensiero medievale giuristi e l'intersezione si è dimostrata stimolante anche perché non sempre questi ambiti di ricerca dialogano tra loro e sono al corrente dei rispettivi progressi penso alla considerazione altissima di cui hanno goduto nell'italianistica e in specie fra i dantisti le tesi di alcuni grandi storici del Medioevo tesi che i dantisti hanno continuato a ribadire anche quando in campo storiografico erano divenute da tempo obsolete purtroppo non mancano fenomeni analoghi tra i nonni italianisti ecco momenti come quello organizzato da Erminiardissino e Valeria Gigliotti sono un opportuno antidoto a queste sfasature gli studi danteschi hanno davvero bisogno di un incrocio di ottiche di un concorrere di punti di vista disciplinari a patto che lo scambio avvenga in contemporanea altro merito del convegno di Torino è l'aver preso di petto alcune questioni teoretiche ed etico-politiche che per Dante sono di portata strategica e di fatti risultano presenti sia nel trattato politico che nel poema l'intelletto umano la configurazione della società la polarità giustizia cupidigia la donazione di Costantino la degenerazione degli ecclesiastici e va detto che il dentismo internazionale è assai sensibile a questi problemi prendiamo ad esempio il nodo dell'intelletto umano su cui all'epoca di Dante confliggevano le posizioni di Tommaso d'Aquino e dei filosofi averroisti o aristotelico radicali nel 2019 è uscito in Francia sotto legge da prestigiosa del Collège de France un volume miscellaneo sotto la direzione di uno dei massimi esperti di storia della filosofia medievale Alain de Libera il titolo Dante e la verroisme un filone di indagine che gli studiosi transalpini hanno da tempo coltivato basti pensare a memorabili polemiche di primo novecento quando era in gioco il mito del presunto tomismo di Dante e giustamente Alain de Libera osserva che Dante e l'averroismo sono di casa al Collège de France infatti il volume in parola vede la partecipazione di illustri medievisti francesi eppure una tradizione italiana di studi sul pensiero filosofico e politico di Dante esiste come e può annoverare nomi gloriosi basta citare un maestro universalmente riconosciuto di primo e pieno novecento Bruno Nardi che duellava da pari a pari con Etienne Gilson e non si tratta solo di glorie d'altri tempi una schiera di storici del pensiero dantesco vigoreggia anche attualmente dalle nostre parti non senza ricevere ampi riconoscimenti all'estero tant'è vero che proprio il suddetto volume su Dante e l'averroismo include non pochi nomi italiani ecco Erminia Ardissino e Valeria Gigliotti da parte loro hanno saputo riportare il dibattito intorno all'averroismo dantesco su una scena italiana senza attenuare in nulla il coefficiente internazionale della discussione così come hanno fatto per altri macro temi tra monarchia e commedia per le grandi questioni di carattere politica e storico dalla QBD alla donazione di Costantino va aggiunto che l'approccio ai contenuti teoretici e politici della monarchia è stato felicemente coiugato con la sottolineatura di un complementare sostrato biblico il convegno torinese ha mostrato che il trattato politico dantesco non poggia solo su un pilastro razionalistico ma attinge anche attinge molto volentieri alla sacra scrittura ad esempio al salterio un libro della Bibbia abbondantemente fruito tanto che le citazioni dei salmi assumono in quest'opera di Dante proprio una funzione strutturale scandendo ogni giro di boa della trattazione in primis e con regolarità gli inizi dei tre libri affiora il resto nella monarchia l'affinità tra il salmista Davide e Dante stesso rivendicazione di questa affinità che come è noto si accampa saldamente nella commedia specie nella terza cantica il fatto è che per Dante la giustizia mantiene un'origine divina ed è una leva imprescindibile dell'economia della salvezza e siamo infine a quel convegno che dei tre è il più prossimo a noi Dante e la Toscana occidentale tra Lucca e Sarzana 1306 1308 convegno realizzato in collaborazione con l'università di Pisa sono già in uscita gli atti a cura di Alberto Casadei e Paolo Pontari con la collaborazione di Matteo Cambi insomma chi è partito per ultimo arriva adesso primo al traguardo della pubblicazione è stato affrontato in questo convegno uno dei segmenti più nebbiosi della carriera umana di Dante ma è stato affrontato con la convinzione di poter intaccare almeno in parte la foschia e gli atti testimoniano una procedura sicuramente redditizia interrogando con pazienza gli indizi noti ne possiamo trovare altri fino all'avvistamento di connessioni plausibili con ulteriori ordini di dati certi sicché tutti gli elementi a disposizione cominciano a fare sistema e ne ricevono unito ora i testi poetici che si ripresentano senza quell'alone di vago e di indistinto che li circondava e li appannava questi testi cominciano adesso a mostrarsi con la rete originaria che li connetteva ad altri testi e più ampiamente li connetteva ad ambienti situazioni circostanze personalità in questo volume di atti mi pare opportuno e vincente il combinato disposto che integra spazio e tempo un'area geografica e una diacronia fermamente delimitata concentrando le ricerche su un territorio circoscritto e un determinato lasso di tempo il ricercatore si pone in eccellenti condizioni per captare tracce e raccordarla certo questo genere di scavo si può avvicinare più agevolmente all'obiettivo se è condotto non da un singolo ma da una squadra è un'ulteriore lezione di metodo che questo convegno e questo volume offrono riesce già sintomatico che molti contributi siano a due mani e non si tratta solo di questo il lettore nota subito che dati riscontri agnizioni circolano per tutto il volum il quale è frutto davvero nel suo complesso di un team con una forte impresa con una forte intesa il lettore non si trova di fronte a un pullulare di informazioni disaggregate al contrario apprezza un quadro di insieme che via via si arricchisce acquistando maggiore consistenza nei limiti almeno in cui è possibile attualmente spiccano in particolare alcuni fatti e alcune deduzioni per cominciare la venuta a Lucca nell'ottobre 1308 di uno dei figli di Dante il terzo figlio maschio Giovanni Alighieri il quale si muove per un atto di compravendita ma probabilmente anche per incontrare il padre altro elemento che emerge il punto di riferimento lucchese degli Alighieri e cioè la famiglia Gentili un clan di mercanti interessato ai rapporti con Firenze e la presenza in questa famiglia del soprannome Gentucco fa pensare irresistibilmente al misterioso personaggio femminile evocato in Purgatorio 24 la lucchese Gentucca la quale aveva talmente colpito il poeta da fargli amare una città moralmente deficitaria opportunamente visualizzato e poi il nesso tra vicende private e vicende poeti Lucca e anche la patria di un poeta come Buonaggiunta Orbicciani Buonaggiunta autore fra l'altro di una canzone morale similemente onore quasi certamente ripresa nonché sottilmente contestata dalla celebre canzone dantesca Poscia che amor del tutto ma lasciato ne mancano in questo volume di atti nuovi accertamenti sulla pendolarità di Dante tra l'ambiente cittadino e il milieu feudale tra il comune di Lucca e la lunigiana dei marchesi Malaspina notevole risalto viene attribuito a una personalità come il marchese Franceschino Malaspina finora rimasto in ombra rispetto al più noto Moroello Malaspina eppure anche lui Franceschino di estremo interesse sia perché in contatto col mondo mercantile lucchese sia perché presente anche sul Cotè letterario in quanto interlocutore di Dante vicino da Pistoia di Sennuccio del Bene Per concludere il mio auspicio è che l'impresa dei convegni proceda che l'esplorazione del corpus dantesco accosti altre opere e perché no accosti altri segmenti biografici del cittadino e dell'esule al tempo stesso mi sembra importante che si crei un aggancio più stretto tra questa iniziativa recente dei convegni su Dante e la tradizione ben assestata e centrale dei congressi dell'Adi che restano per il nostro cammino dantesco punto di convergenza e di ripresa vi ringrazio ringrazio il collega Sergio Cristaldi per aver fornito molte tessere del del mosaico che rappresenta e tensioni e dinamiche nella critica dantesca puniamo dall'ultimo decennio del novecento fino ai nostri giorni il secondo intervento dedicato alle attività dantesche di Adi Scuola è affidato alla professoressa Sebastiana Nobili che insegna letteratura italiana nella università di Bologna anche qui mi permette solo elencare alcune pubblicazioni su Dante come la consolazione della letteratura un itinerario fra Dante e Boccaccio poi i saggi Dante e il repertorio narrativo medievale e infine desidero segnalare la curatela fatta assieme ad Alfredo Cotignoli degli atti del convegno Dante e Ravenna e passo la parola alla collega Sebastiana Nobili grazie grazie a tutti io devo fare una piccola panoramica e vorrei soltanto sottolineare quanto lavoro è stato fatto dall'ABI e in particolare dall'ABI Scuola in collaborazione con le università per questo avvicinamento al centenario dantesco che è avvenuto attraverso una serie di appuntamenti e quindi ringrazio gli organizzatori che hanno pensato a me per questo intervento perché gli ultimi appuntamenti si sono svolti a Ravenna io insegno all'Università di Bologna ma nella sede di Ravenna in realtà tutto è iniziato parecchio tempo fa perché voglio ricordare che nel 2007 c'è stato un grande convegno organizzato da Natascia Tonelli con la SIS Toscana a Siena dedicato appunto a Dante nelle scuole dal 2016 poi questo discorso che Natascia aveva già anticipato molto tempo prima gli atti del convegno sono appunto a stampa dal 2016 l'ADI e in particolare il gruppo Dante e noi di cui sono felice di far parte ha cercato di avvicinarsi al centenario con una serie di iniziative annuali che riguardano la missione lo scopo del gruppo Dante noi cosa dobbiamo leggere di Dante come dobbiamo studiarlo come dobbiamo insegnarlo e quindi l'ADI e in particolare la sezione didattica l'ADI SD ha voluto approfondire questo aspetto assumendosi l'impegno di coordinare dei seminari di studio e di incontri nell'ambito di un progetto organico che ha proseguito fino all'attuale anniversario è stata proprio Natascia Tonelli che già si occupava da tempo della questione del raccordo scuola-università e dell'insegnamento di Dante nelle scuole a organizzare un primo appuntamento che ha avuto grande risonanza che è stato molto importante a Siena un convegno concorso dal titolo Dante come lo vorrei che si è svolto fra il 27 e il 28 maggio del 2017 a Siena è stato un convegno concorso molto importante al quale hanno partecipato 150 studenti di 20 scuole disseminate in tutto il territorio nazionale tra l'altro provenienti da diversi tipi di scuole superiore liceo classico scientifico IIT istituto tecnico e anche liceo delle scienze applicate c'è stato un bando con il quale gli studenti sono stati chiamati a elaborare prevalentemente dei lavori di gruppo e quindi hanno realizzato dei video dei powerpoint delle riscritture dei saggi con attualizzazione della terra dantesca e non solo in quell'occasione il gruppo Dante e noi organizzando questo convegno concorso suggerì ai studenti delle scuole superiori tre piste di lavoro innanzitutto un lavoro di scrittura creativa studente poi un approfondimento che alcune classi e scuole hanno scelto studente uomo e personaggio della commedia e infine era stato chiesto come terza pista suggerita come terza pista l'idea di rileggere la commedia come un documento testimoniale di un'epoca tutti i lavori venivano svolti dovevano essere svolti in chiave interdisciplinare soprattutto il video e il book e questo ha stimolato naturalmente soprattutto da parte dei docenti una riflessione metodologica sulla didattica della letteratura e naturalmente la didattica di Dante è diventato un caso esemplare nelle due giornate se mesi vari studiosi di Dante hanno partecipato e hanno tenuto relazioni di aggiornamento per i docenti che erano presenti con i loro studenti è stato interessante l'incontro e poi erano raccolto nelle edizioni successive a Ravenna perché docenti e studenti spiegavano le scelte fatte le eventuali difficoltà incontrate gli esiti e insomma attivando un feedback molto importante e anche realizzando un momento di socializzazione questo corso concorso realizzato dall'università di Siena e dall'università per stranieri di Siena con il mio compita è stato sostenuto non solo dall'ADI mi piace ricordarlo ma appunto anche dalla scuola di dottorato di italianistica e quindi anche i giovani studiosi i giovani che si applicavano a studiare Dante hanno avuto anche occasione di fare una riflessione sulla sulla didattica dantesca ora vorrei condividere con voi qualche immagine perché poi parlarne è poco vorrei anche farvi vedere qualche locandina e se possibile qualche fotografia ma vedo che c'è rumore di fondo provo a mettere non ti sentiamo più da quando ha messo la cuffia devi ripristinare l'audio di prima Sebastiana non ti sentiamo più la cuffia ha bloccato l'audio devi ripristinare l'aspetto di prima no 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 al solito conviene uscire e rientrare e di prima adesso mi sentite sì evidentemente si era bloccato l'audio perché avevo tentato con le cuffie perché avevo letto in chat che sentivate del rumore di fondo e il rumore di fondo è dovuto alla ventola credo, del mio computer evidentemente se non funziona la cuffia non posso farci niente spero mi sentiate provo a portare un po' la voce a parlare più alto ora si sente bene Sebastiana ma c'è un po' di rumore di fondo e vabbè pazienza purtroppo non posso fare altrimenti allora quello che stavo dicendo prima quando avete smesso di sentirmi era semplicemente che volevo condividere con voi alcune immagini di questi incontri che sono stati fatti dal gruppo Dante e noi proprio per darvi l'idea del clima anche di questi incontri e non soltanto parlarvene io dunque spero che vediate il mio schermo e che vediate questa locandina questa locandina riguarda il primo incontro quello che si è svolto quello che si è svolto a Siena come vi dicevo e tra l'altro aveva anche una bellissima immagine questo incontro come vi dicevo si è svolto su due giorni 27 e 28 marzo del 2017 ed è stato un incontro molto importante perché ha aperto all'idea di lavorare insieme alle scuole e di lavorare insieme agli studenti dall'anno dopo questo progetto si è spostato abbiamo voluto spostarlo a Ravenna vi mostro un'altra locandina meno bella meno affascinante perché non ha immagini ma il 19 aprile del 2018 ci siamo incontrati a Ravenna con un forte appoggio da parte del comune di Ravenna e della città che ci teneva ad avere le scuole perché volevo mostrarvi questa locandina per dirvi che abbiamo fatta nostra l'ipotesi già aperta insomma la novità ecco di Siena e cioè l'idea che la mattina gli interventi fossero completamente degli studenti che portavano le loro ricerche e i loro lavori nel 2018 15 docenti da tutta Italia appartenenti naturalmente all'ABSD hanno svolto una didattica dantesca secondo obiettivi e modalità concordate per ricavarle appunto elementi per una discussione più generale sulla nuova didattica delle scuole secondarie e superiori insomma hanno trattato Dante come una sorta di case study gli studenti hanno svolto questi elaborati danteschi seguendo ancora una volta le linee guida di compita e impiegando diverse modalità alcuni hanno preparato video altri powerpoint la cosa più bella è stata che gli studenti alla mattina hanno presentato i loro interventi al pomeriggio c'è stato un dibattito con i colleghi del gruppo Dante Noi Casadei Leggia Tonelli anche con Ruozzi presidente Adi alla presenza di Chiara Lastraioli quindi una collega che insegna in Francia ci siamo anche confrontati sull'insegnamento dei classici nelle scuole italiane e francesi e gli studenti poi hanno sciamato per Ravenna e sono stati accompagnati dai miei studenti del corso di laurea di beni culturali a visitare i monumenti di Ravenna quindi l'aspetto così interessante di questo momento di riflessione su Dante è anche che si sono incontrati gli studenti delle scuole superiori che studiano Dante con gli studenti dell'università che un domani si occuperanno appunto del patrimonio culturale della loro valorizzazione vi mostro solo un paio di immagini questa è la mattinata al palazzo dei congressi da sinistra c'è il direttore del dipartimento di beni culturali allora direttore Eugito Massini la presidente del campus di Ravenna e come vedete Alberto Casadei e oltre alla sottoscritta l'assessore alla cultura del comune di Ravenna quindi un grande interesse anche dalle istituzioni ma l'immagine più bella è questa degli studenti ce ne abbiamo tante che con la loro insegnante hanno raccontato a tutti gli altri studenti presenti a Ravenna universitari e medi i lavori che hanno svolto e li hanno presentati quindi è stata una grande occasione di condivisione mentre nel pomeriggio abbiamo avuto il dibattito in classense dedicato soltanto agli insegnanti mentre gli studenti giravano per la città e dedicato appunto a fare il punto su questo corso di aggiornamento perché poi l'anno successivo abbiamo deciso come gruppo Dante e noi di focalizzare l'attenzione proprio sul corso d'aggiornamento e infatti come vedete c'è una continuità anche nelle locandine ma l'attività era diversa il 12 aprile del 19 nella sala dantesca finalmente restaurata della biblioteca classense abbiamo parlato dei lavori svolti dai docenti quindi è stato un vero e proprio corso d'aggiornamento un docente ha assunto il ruolo di coordinatore di questi altri colleghi che hanno parlato e tutti questi colleghi hanno presentato il piano didattico svolto secondo i parametri da noi indicati gli allievi hanno svolto degli elaborati ma nella giornata conclusiva di Ravenna si è parlato in particolare ogni docente ha presentato in particolare il tipo di lavoro che aveva svolto nella didattica dantesca spero riusciate a leggere nonostante la locandina sia piccola insomma per esempio Emanuela Marini del liceo di Firenze ha fatto un lavoro linguistico una lettura sulla lingua della commedia Micaela Rinaldi dell'Ariosto di Ferrara ha studiato Dante come intellettuale engagé del suo tempo Stefania Borini del liceo scientifico di Ferrara ha letto Dante e la matematica parlando naturalmente dell'astronomia della matematica della geometria così come la possiamo cogliere nella commedia mentre Silvia Perini del liceo Oriani di Ravenna ha fatto un lavoro molto bello per quello che ricordo anche questo con i suoi studenti su temi grandi temi morali della commedia la libertà l'amore e infine Elisabetta De Simone liceo Pulceri Paonucci da Calvoli di Forlia ha svolto un lavoro sulla vita nova e Cristina Giacomucci del liceo Leopardi di Recanati ha invece avvicinato con i suoi studenti la commedia attraverso una serie di percorsi tematici quindi non ha affrontato una lettura come dire sequenziale della commedia Inferno Purgatorio Paradiso ma grandi temi di scavo e tutti questi tipi di lavori poi sono stati discussi al pomeriggio dai docenti universitari in particolare Ledda e Casadei come vedete in questi appuntamenti ravennati oltre all'appoggio del comune di Ravenna del dipartimento di beni culturali dell'università di Bologna abbiamo avuto anche l'appoggio della regione Emilia Romagna e naturalmente del CEPEL che ci ha accompagnato il punto dolente come capirete che sto arrivando al 2020 perché nel 2020 avevamo previsto sempre a Ravenna un grande convegno sulla didattica dantesca nelle scuole e nelle università che doveva avere luogo il 23 aprile del 2020 ma come sapete nel frattempo è arrivato il Covid allora vi faccio vedere le foto degli insegnanti nel 2019 perché naturalmente foto del 2020 non le ho e ricorderete che fu un momento molto difficile per tutti quindi queste sono le ultime fotografie degli incontri in presenza perché poi come Adi Adi SD e gruppo Dante noi non ci siamo arresi devo dire che appunto il particolare Alberto Casadei il nostro Alberto è molto volitivo e quindi ci ha esortato a continuare in un momento difficilissimo come è stato quello dell'anno scorso del lockdown totale e allora siamo riusciti a fare lo stesso questo breve incontro due ore in streaming allora davvero eravamo tutti alle prime armi eravamo su Google Meet ma è stato trasmesso in diretta anche sulla pagina Facebook del Dipartimento di Beni Culturali dell'Università di Bologna e Dante noi non si è fermato neanche nel 2020 abbiamo avuto un incontro sempre nella data prevista il 23 aprile del 2020 un incontro molto bello prestigioso perché abbiamo avuto anche rappresentanti del Ministero Carla Aguetti della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici del Ministero dell'Istruzione naturalmente l'assessora alla cultura del Comune di Ravenna naturalmente il nostro presidente Gino Ruozzi e con Silvia Tatti Natascia Tonelli Giuseppe Ledda le insegnanti Silvia Perini e Monica Fabri naturalmente con Alberto Casadei abbiamo discusso del lavoro triennale insomma abbiamo chiuso questo triennio di sperimentazione nelle scuole cercando di capire a quali risultati avesse portato e fino a che punto questo lavoro di condivisione poi avesse provocato una maggiore indotto una maggiore consapevolezza non solo negli insegnanti ma anche negli studenti devo dire che la cosa più bella di questa conclusione dell'anno scorso ma molti appunto dei presenti c'erano in streaming è stata che abbiamo concluso alle 17 il nostro incontro annuale sulla didattica dantesca con dei video degli studenti video che gli studenti avevano preparato durante il lockdown quindi in casa video montati dagli studenti devo dire molto più bravi di noi se non altro anagraficamente del loro modo di muoversi con la rete e con gli strumenti informatici e ricordo in particolare in quel momento è stato almeno per me quasi commovente vedere che gli studenti avevano preparato un video in cui recitavano Dante che li accompagnava dalla mattina alla sera una studentessa si alzava recitando Paolo e Francesca un'altra andava a lavarsi i denti accompagnata da un altro canto dell'inferno e poi c'era uno studente che faceva colazione recitando Dante e così via cioè tutta la giornata in clausura di questi studenti delle scuole superiori era scambita dalla recitazione di Dante che faceva per questi ragazzi da accompagnamento da vademecum in fondo anche vorrei dire da portafortuna perché speravano e lo dicevano alla fine del loro video insieme a Dante di uscire a rivedere le stelle dopo quel momento di clausura totale che tutti ricordiamo e che è stata pesantissima soprattutto per i giovani credo che incontrare Dante pensare Dante insieme ai loro insegnanti ognuno davanti al proprio schermo sia stato in quel momento un elemento importante perché Dante li ha tenuti vivi e soprattutto li ha tenuti uniti tutti questi materiali li trovate naturalmente tutti i link e le e appunto i resoconti di queste giornate le trovate sul sito Dante Noi e tolgo l'occasione per ringraziare tutti quanti in particolare Elisa Squiciarini per tutto il lavoro fatto per archiviare raccogliere le informazioni delle nostre iniziative spero speriamo di potervi riaccogliere in futuro a Ravenna per nuove iniziative quando saremo usciti dall'emergenza grazie grazie a Sebastiana Nobili che ha aperto la finestra sulle tematiche della didattica dantesca nelle scuole e nell'università tra le tante iniziative citate c'è quella che particolarmente mi ha colpito e che mi pare sia stata affiliata da Natascia Tonelli Dante come lo vorrei che è un modo per attualizzare Dante e i nostri giorni Dante e i nostri problemi come questo classico o che cosa questo classico ci dice di fronte alle tematiche dell'oggi e a questo punto passiamo anche perché il tempo corre velocemente il terzo intervento è dedicato a Dante nei congressi dell'Adi tra sessioni plenarie e panel questo terzo intervento è affidato a Walter Leonardo Puccetti della Università del Salento anche per il nostro Walter mi limito a dare solo qualche indicazione bibliografica ha pubblicato Fuga in Paradiso storia intertestuale di Cunizza da Romano e ancora Gli inverni fiorentini e la primavera di Matelda ma vorrei ricordare due saggi a me molto cari come Quale stazio per Dante e ancora Vallone lettore delle rime dantesche in quel volume dal titolo Il Dante di Aldo Vallone curato da Vincenzo Caputo a Walter Leonardo Puccetti passo la parola tra una decina di giorni l'associazione degli italianisti compie 25 anni di rito sarebbe il tempo di una generazione oppure voler buttarla sul prango il tempo che ci è voluto perché un nato in quel 1996 della fondazione postuli oggi una borsa di dottorato parlare di Dante nei congressi dell'Adi come mi ha presto a fare come mio compito significa dunque parlare per un lasso di tempo significativo e di grandi mutamenti storici parlare anche dell'evoluzione di una disciplina del suo canone delle sue basi epistemiche il tempo concesso mi permetterà non più che una panoramica raramente una messa a fuoco sul dettaglio ma dovrei riuscire spererei di riuscire a fornire almeno una linea di sviluppo e di cambiamento credo che sia parvente almeno per noi italianisti che la presenza e la diramazione di Dante nei congressi ADI conosce due fasi e che il gran tornante è rappresentato dall'anno celebrativo del 150esimo dell'unità della nazione e dai due anni preparatori immediatamente precedenti tra il 2009 e il 2011 insomma dopo quella data la creazione del gruppo di lavoro interno all'associazione Dante e noi nel 2016 approfondì gli sviluppi che brevemente cercherò di illustrare la nascita dell'ADI intuitivamente mirava a una ricerca di identità scientifica e di funzione anche orgogliosa ma responsabile il legame coi compiti della didattica e gli interrogativi cui rispondere e ciò a partire dalla formazione degli insegnanti nelle scuole furono l'oggetto precipuo di premura dei primi fessi segnatamente dei primi tre che non ebbero pubblicazione di atti insieme di presenza e di influenza dell'organizzazione universitaria che qui però in questa sede meno ci interessano è ovvio che ciò comportasse un'inchiesta sul canone e sulla tradizione sull'oggetto che ci faceva e che ci legittimava come soggetto l'indagine a partire dal quarto congresso del 1999 lecce otto fino agli anni appunto che di poco precedettero quello topico e magnetico del centocinquantesimo da edificazione l'indagine dicevo si estese statutaria di congresso in congresso ai rapporti con le letterature europee ai generi e alle forme ai messi con le istituzioni civili e con le evoluzioni sociali non bisogna aver tema di affermare che in questa primissima fase all'incirca decennale non è ancora al tutto innervante e in due congressi in vero quasi irreperibile la presenza di Dante e della sua ricezione sia nelle relazioni in sessione plenaria sia in quelle che a partire dal congresso del nuovo millennio nel 2000 a Catania preso la forma che rimarrà di panel di sessioni parallele tematicamente organizzate e che coordinate da una figura vedono esprimersi giovani studiosi per lo più non ancora incardinati nell'accademia non è incongruo pensare che in cerca di una linea di continuità di un codice da trasmettere di una tradizione pedagogizzabile di una socievole riconoscibilità del patrimonio letterario Dante e la sua opera siano apparsi all'inizio pragmaticamente o subliminalmente proprio come nei secoli benveschi della nostra storia letteraria poco maneggevoli scaleni per usare aggettivo longhiano di ardua metrabilità insomma agli inizi un Dante eccedente un Dante apastico nei fatti prevalse in quei primordi diciamola all'ingrosso una linea insieme e alternativamente per trarre storico sociale bucata in favore di Dante nei congressi del 2005 a Bologna e dell'anno seguente a Monopoli bucata da due relazioni in sessione plenaria e variamente notizie rispettivamente di Giorgio Inglese e di Claudio Giunta seguite in quei due anni da due comunicazioni di allora giovani studiosi l'ottimo spessore filologico su materno dantesco se in inglese si dirà dantista professionale in una relazione istituzionale sui problemi testuali derivò con piglio animoso dalla commedia di Dante una triplice istanza e cioè istanza di accertamento interpretativo su base storico culturale nella fattispecie confutando la presunta trasgressività conoscitiva di Ulisse nel 26esimo dell'Inferno che ieri ricorderete anche Sonia Gentili batteva in breccia due istanza di scepsi nel fermare l'edizione molto fra virgolette critica del poema di contro a quella che a inglese era parsa una recente scocciatoia editoriale e tre infine istanza di promozione di edito polari divulgative del primo dei nostri classici e con lui degli altri maggiori giunta in una relazione lingua e generi nella commedia che lui ha peraltro riproposto con successo tra l'edetto anno di pandemia che ci fa lavorare solo da remoto e moltiplica e ubinare le occasioni youtube giunta dicevo rimetteva Dante nella tradizione lo faceva a croceria o terminale oggettivo e quasi impersonale comunque non psicologistico per i generi medio latino entrambi inglese giunta bussavano a una porta che si aprì di colpo tra il 2009 e quello di Torino del 2011 gli anni delle celebrazioni unitarie cui l'Adi dette sigla nei tre congressi e poi in un quarto successivo literatura degli italiani in cui Dante trovò una centralità che definirei di ritorno tipica a ritroso verso le origini a partire dalla funzione catalizzante che la figura del maggior poeta dell'occidente è per il nostro risorgimento e per la formazione di chi combatte in esso e ne uscì classe dirigente un Dante ritrovato non soltanto le relazioni in sessione plenaria di quegli anni da quella di Giuseppe Ledda così innovativa sulle categorie e sulle metafisiche spaziali nella commedia a quella del compianto e anche ieri commemorato Marco Santagra che fornì con una sorta di etopea di Dante una preziosa primizia degli studi con i quali in dieci anni poi rimodellò l'immagine del poeta né si misura soltanto dal numero crescente di panel consacrati al poeta fino alla monumentale edione congressuale torinese con tre grandi sessioni parallele ma si misura anche dall'onda lunga della cospicua presenza dantesca nei tre congressi da 2013 al 2015 a Roma a Padova e di nuovo a Roma dedicati non per niente al nesso nevralgico ricerca didattica e misura direi trionfalmente nel 2016 al congresso di Napoli quell'anno il 2016 vede la nascita del gruppo interno all'Adi Dante Noi che ebbe propulsore e primo coordinatore Rino Caputo e dall'anno seguente felicemente fino ad oggi Alberto Casadei il nostro gruppo si prefigge di moltiplicare le progettualità legate alla didattica nell'università e nelle scuole e legate alla divulgiazione allo studio del nostro poeta non sarà un caso che il congresso napoletano di quell'anno che tematizzava nel titolo la letteratura italiana e le arti con l'imponenza dei quattro panel danteschi che aggredivano il polimorfismo della commedia all'incrocio con le altre arti dopo che la relazione in sessione plenaria di Sergio Cristaldi poesia che rappresenta musica aveva indagato la dimensione musicale della nella commedia con uno dei saggi a mio modesto avviso più autorevoli in assoluto delle ultime annate di congressiadi non sarà un caso dicevo che quel congresso vedesse Dante come ricettore vettore e direttore esemplare del dialogo delle arti e ciò anche per il modello analogico sul piano di metodo che dal suo studio ne veniva giù a discendere Dante ormai non più eccedente e irriducibile ma Dante direi banco dei cambi e anche dei pegni il resto è storia recente e assestata ormai in posizione assiale dentro ogni dibattito adi di disciplina il congresso fiorentino del 2017 sulle forme del comico è ancora Cristaldi in sessione plenaria a trainare con la sua relazione metalinguaggio del comico dantesco una definizione di genere che per la commedia è ancora così disputata e ambigua da aprire a tutte le declinazioni del comico nei secoli seguenti della nostra letteratura la relazione di Cristaldi peraltro orientava l'interno con forze sorprendente ma affascinante euristica verso la teatralità a Bologna nel 2018 e a Pisa nel 2019 la fittezza dei panel danteschi con un ventaglio di offerta quasi vertiginoso per varietà qualcuno può trovare forse eccessiva ma comunque indice di quella che ottene assialità ormai del poeta nel canone tra le comunicazioni venuteva già al grande centenario e siamo arrivati a oggi a parlare di noi che parliamo di date ma questo eterno ritorno alla casella iniziale della nostra letteratura non è frustrante come nel gioco dell'oca ogni volta ne torniamo nuovi nuovi alimenti per noi e per i nostri studenti assegno forse che Dante e diciamolo è il suo poema la chiave interpretativa di un tormentoso destino secolare la cifra culturale dell'italianità non solo letteraria ringrazio per la vostra attenzione grazie a Walter Leonardo Puccetti per questa relazione durante la quale ha delineato la parabola credo sempre più crescente della presenza di Dante nei nostri congressi dell'Adi e lo ringrazio anche per aver segnalato il congresso sulle arti figurative tenuto a Napoli e quello che viene fuori da questa sessione è che i nostri relatori hanno come dire si sono impegnati a evitare giustamente un elenco e di volta in volta hanno mostrato le tensioni e le linee della critica rispetto a Dante e così come la collega Sebastiana Nobili ha delineato le problematiche della didattica oggi quando si parla di Dante e ora naturalmente di chiudere questa sessione e di passare la parola a Gino Ruozzi ma come mi è stato consigliato dall'attenta e vigile impeccabile regia di Alberto Casadei devo segnalare ecco su indicazione di Alberto Casadei che l'ADI in questi ultimi mesi ha costituito dei nuovi gruppi di lavoro come quello sull'illuminismo meridionale quello sul Seicento ma e qui vorrei arrivare ha anche costituito il gruppo di lavoro medioevo e poiché c'è in questo tempo come dire una quotidianità di convigni su Dante allora abbiamo pensato di volgere la nostra attenzione nel redigere un cronoprogramma di attività che partiranno naturalmente dal prossimo anno e il gruppo medioevo si occuperà non di una singola personalità ma si occuperà naturalmente dell'arco della storia letteraria che va dal 200 alla fine del 400 sono questi i gruppi aperti alle vostre libere adesioni ringrazio tutti e passo la parola al nostro presidente Gino Ruozzi sì grazie Pasquale e ringrazio tutti i relatori che sono intervenuti in maniera così precisa e ricca perché ci hanno dato veramente un quadro bellissimo dei lavori che si stanno facendo che si sono svolti e che veramente sono magistrali nella ricerca io passo subito la parola ad Alberto Casadei perché abbiamo un po' di cose da fare vedere prima di arrivare alla doppia intervista appunto gestita da Florin Danardi di Olga Sedakova e Antonella Nedda grazie Alberto grazie Gino grazie soprattutto ai relatori a Pasquale per questi ottimi momenti di sintesi di una grande attività che appunto è stata di recente quella del gruppo Dante e appunto tutti i colleghi che intervengono adesso e anche oggi poi nel pomeriggio sono coinvolti in questo gruppo ma poi dell'Adi in generale fin appunto dalle sue origini ma con tempi diversi come ci ha fatto vedere molto bene Walter Puccetti e con finalità diverse quelle didattiche quelle della sperimentazione e quelle della ricerca anche con convegni nuovi poi naturalmente l'Adi sostiene e dà il suo apporto a convegni generali come quello che organizzerà Bologna con Alma Dante purtroppo rinviato a settembre da maggio quando era previsto in questo breve periodo anche per poi lasciare qualche minuto di pausa visto che prima non è stato possibile e poi riprendere all'orario previsto delle 12.30 avevamo comunque pensato di far vedere brevemente due piccoli assaggi del lavoro svolto il primo è proprio relativo a questo bellissimo progetto didattico di quest'anno proprio il 2021 e questo progetto appunto che si intitolava Adotta un canto e che consisteva poi nelle realizzazioni di video è stato coordinato dall'ADSD e quindi do subito la parola a Silvia Tatti ma qui presente poi parlerà nel pomeriggio anche una delle promotrici e delle coordinatrici proprio di questo progetto Annalisa Nacinovic se Silvia si vuole collegare può far vedere le immagini di questa bellissima iniziativa Sì allora poi facciamo vedere soltanto lo schermo la schermata però ecco ci tenevo a dire che ci siamo interrogati all'interno dell'ADSD su come celebrare il Dante D e volevamo coniugare l'occasione festiva celebrativa con la prassi di didattica dantesca e non solo dantesca che noi portiamo avanti da anni e quindi abbiamo trovato questa soluzione che si legava anche al momento di pandemia appunto adotta un canto e portalo nella tua città quando puoi che voleva coinvolgere gli studenti attivamente ma anche renderli interpreti e quindi coinvolgerli in un'occasione festiva che però permettesse di attivare quella modalità di interpretazione lo spirito critico e la capacità di analizzare un testo anche complesso che sono gli obiettivi che noi perseguiamo in tutte le nostre attività didattiche come ADSD quindi volevamo coniugare lo spessore di una ricerca didattica che prosegue da anni e che ha degli obiettivi ben precisi di intervento nella scuola con l'occasione festiva devo dire che il risultato grazie anche alla collaborazione di tutto il direttivo dell'ADSD e soprattutto di Annalisa Nacinovic e Marianna Villa che voglio ringraziare non smetterò mai di ringraziare col risultato è stato davvero entusiasmante perché le scuole di tutta Italia e di tutti gli ordini ecco questo ci tengo a sottolinearlo non sono stati soltanto licei sono stati anche istituti professionali istituti tecnici hanno aderito con grandissimo entusiasmo e partecipazione e hanno inviato questi video che erano un'occasione di legame con la realtà con il territorio in un momento di isolamento quindi l'obiettivo era anche quello di superare questa barriera e di farlo nel nome di Dante cioè dell'interpretazione di un classico che è anche un modo per dare un senso alla comunità nazionale che anche questo comunque è un elemento di ricchezza che non deve significare costruzione dentro la nazione ma deve essere riconoscimento identità e quindi è un elemento aggiuntivo e quindi volevamo costruire questa rete fra tutte le scuole dell'Italia coinvolgendo i ragazzi e i ragazzi hanno dato questa risposta che è veramente bellissima io vi invito ancora ad andare sul sito italianisti.it nella pagina adsd centenario dantesco dove sono visibili i cento video la consegna che abbiamo rivolto alle scuole era quello di individuare una parola chiave sembra un dettaglio trascurabile invece è un elemento decisivo perché sono risultati degli elementi anche nuovi di interpretazione delle letture che sono state attualizzate che sono state riportate all'esperienza degli studenti perché individuare una parola chiave significa leggere il canto interpretarlo entrare dentro i personaggi capirlo e quindi una parola è già un processo interpretativo poi dovevano individuare una o due terzine da leggere e quindi anche quello è stato un modo per farli entrare nel testo e poi dovevano parlare del testo attraverso immagini immagini dove loro possono essere attori poi le scelte sono state diversissime oppure immagini dei luoghi quindi si è creata una geografia dantesca insomma devo dire che la creatività l'entusiasmo la professionalità la capacità interpretativa sono stati tali che i risultati mi hanno molto confortato ci hanno molto confortato sulla capacità di reazione dei nostri studenti anche in tempi così duri e così difficili come quelli che stiamo attraversando quindi vi invito ad andare a vedere adesso non c'è tempo per nemmeno per fare una selezione perché comunque sarebbe stata una selezione troppo riduttiva però forse si può vedere la pagina così questo vi invita ad andare la pagina mostra delle immagini che erano delle immagini che sempre gli studenti hanno scelto come rappresentativo della loro città o della loro scuola o di quel canto e poi di andare a vedere ricordo uno dei tanti video dei tanti episodi che mi ha particolarmente colpito perché il canto quinto dell'inferno gli studenti hanno proposto delle immagini e in una di queste immagini c'era una panchina rossa è stato il loro modo per celebrare il femminicidio attraverso questa panchina rossa che era sullo sfondo del discorso è soltanto uno delle tante possibilità poi i registri sono stati veramente molteplici l'interpretazione critica ma anche l'ironia anche la insomma è stato veramente sono tutti diversi sono cento sono tutti entusiasmanti per cui l'unico modo per verificare la ricchezza di questa esperienza è andare a vedere direttamente la pagina grazie grazie Silvia è infatti un invito proprio a procedere lo facciamo soprattutto a coloro che sono interessati alla didattica innovativa che da tanti anni l'ADSD propone e questo continuo confronto fra lettura attento del testo e poi realizzazione in forme varie prima abbiamo sentito da Sebastiana i powerpoint e quant'altro ora i video curati con grande intelligenza e con obiettivi specifici ecco tutto questo rende possibile un dialogo nuovo anche con le generazioni attuali che magari hanno più difficoltà a leggere testi lunghi e complessi ma se sono giustamente guidati poi si impegnano fortemente e un altro strumento che il gruppo Dante ha realizzato proprio in occasione di questo centenario e che potrà essere proseguito anche nei prossimi anni naturalmente dopo il centenario l'attività del gruppo Dante continuerà assieme a quella del gruppo sul Medioevo e agli altri gruppi dell'Adi in una continuità in una interazione nuova però quest'anno avevamo pensato di avviare delle video lezioni Adi che appunto sono pensate con una durata di circa 30 minuti su temi generali oppure su punti specifici di tutta l'opera di Dante e molti amici del gruppo Dante ma anche in generale dell'Adi italianisti insomma di tutta Italia hanno collaborato e tutto questo è stato poi realizzato con grande perizia dal dottor Leonardo Canova che ha anche esperienze appunto registica e abbiamo pensato allora di fare un trailer per mostrarlo a tutti e ora andrà in onda vedrete appunto un passaggio di queste video lezioni che sono disponibili sui social di Dante e noi e comunque appunto sono molto utili anche per la didattica sia nelle scuole che all'università e appunto anche per questo volevamo segnalare specificamente ringraziando di nuovo Leonardo Canova che tanto si è impegnato assieme a tutti gli altri collaboratori del gruppo ecco se possiamo vedere il trailer delle video lezioni Adi nelle iniziative che abbiamo pensato di fare è inserita anche una serie di video lezioni e queste video lezioni che sono pensate soprattutto per la didattica delle scuole superiori hanno delle caratteristiche abbastanza fisse sono della durata di circa 30 minuti uno specialista dell'associazione degli italianisti un esperto di Dante una persona che ha fatto ricerche specifiche su qualche argomento proporrà un approfondimento alcune lezioni saranno di carattere generale per esempio come introduzione alle tre cantiche della Divina Commedia altre saranno specifiche su un problema un personaggio un canto e altre ancora saranno panoramiche con appunto indicazioni storiche metterò una breve lezione sui rapporti tra Dante e la grande letteratura inglese con particolare riferimento al romanticismo in questa breve lezione vi parlerò della visione di Dio il canto diciassettesimo del purgatorio è il canto centrale del poema e a metà dei cento canti in questo mio intervento mi occuperò del rapporto fra Dante e le arti figurative mi occuperò cioè di quello che Dante ha visto le opere d'arte che poterono in qualche maniera contribuire all'ideazione di certe immagini poetiche della Commedia vorrei soffermarmi in particolare ed è quello che faremo sulle metamorfosi della figura di Beatrice vi parlerò di Malevolge luogo in inferno detto Malevolge in particolare della Quinta Volge un capolavoro del passato merita direi una dislocazione del lettore non possiamo pretendere dice Singleton che l'opera venga a noi siamo noi che dobbiamo andare incontro all'opera dunque il titolo della mia relazione è Giovanni Boccaccio e il mito di Dante perché se Dante scrive la Commedia il monumento destinato a durare il mito di Dante come noto lo costruisce Boccaccio che erige un vero e proprio monumento al suo maestro bene grazie allora penso che adesso se anche Gino è d'accordo possiamo concederci una piccola pausa ma come si dice poi torniamo subito perché alle 12.30 c'è il bellissimo incontro con Olga Sedakova Antonella Nedda coordinato da Florin Danardi perfetto un caffè e ci riprendiamo subito grazie di tutto della ricchezza di questi contributi a tra pochissimo grazie a tutti 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 Grazie. Grazie. Bene, buongiorno a tutte e a tutti. E allora dopo un salutare e piacevolissimo caffè riprendo la linea per questo dialogo condotto appunto da Florinda Nardi, amica dell'Università Tor Vergata di Roma, con Olga Sedakova e Antonella Nedda che ringrazio tantissimo per essere presenti. Ricordo solo che i lavori del pomeriggio riprenderanno alle 14.15 con una tavola rotonda coordinata da Rino Caputo, Sudante Petrarca e gli altri classici italiani tra didattica e ricerca e alle 16.15 avremo l'intervento di Elena Ferrante letto da Tiziana Derogatis. Dopodiché arriveremo alle conclusioni. Florinda, grazie e a te la parola. Grazie, grazie Gino e grazie davvero a te e ad Alberto Casadei per avermi dato la possibilità di confrontarmi con due grandi personalità della nostra poesia contemporanea. Olga Sedakova e Antonella Nedda che innanzitutto ringraziamo per essere qui e salutiamo. Faccio una brevissima premessa anche con una breve introduzione ma semplicemente per spiegarvi qual è la dinamica che abbiamo voluto tenere in questo dialogo nell'ottica anche della mattinata di oggi, di una internazionalizzazione ma anche un'attenzione alla contemporaneità, all'insegnamento che in realtà Dante può dare a tutti quanti noi. Faremo veramente una serie di domande alle nostre ospiti, a volte in parallelo, a volte intrecciandole e mettendole ovviamente in dialogo tra di loro, proprio per sviscerare quanto Dante sia presente nella poesia contemporanea italiana e non solo italiana ma appunto in relazione con la cultura russa. Un po' come diceva questa mattina Stefano Carrai, come si fece con Montale nel 1965, sentire le voci dei poeti che con Dante si confrontano. Olga Sedakova è una delle figure di maggior rilievo del panorama letterario russo e oserei dire del panorama mondiale. Compone poesie fin dagli anni Sessanta o meglio, come lei stessa preferisce dire, scrive prima di imparare a leggere e a scrivere. La sua produzione però è una produzione che inizialmente circola in ambienti semiclandestini in Russia fino più o meno agli anni Ottanta, quando cominciano ad uscire le prime pubblicazioni. E non è un caso che la sua prima raccolta di poesie esce a Parigi nel 1986. In Russia viene pubblicata solo a partire dal 1989, quando poi comincia ad insegnare nella facoltà di filologia dell'Università di Mosca. Una sua prima sostanziale, sistematica, più che sostanziale raccolta della sua produzione sia in poesia, in prosa, le traduzioni, la saggistica, perché veramente Olga Sedakova ha lavorato a 360 gradi sulla produzione letteraria, esce nel 2001. In tutti questi anni viene tradotta in tantissime lingue e viene premiata in tutto il mondo. Probabilmente in Italia ricordiamo il premio Dante Alighieri del 2011, ma sicuramente quello dello scorso anno, il Lerici Pea, che è appunto un premio alla carriera. L'Italia è un paese che ama particolarmente, nel quale torna con il quale assaldi i legami, e l'italiano, questo lo dice lei stessa, è la lingua che ha appreso, come ricordo in molte interviste, proprio per poter leggere Dante. Di Dante, della sua influenza, della sua produzione poetica, della traduzione che Sedakova ha fatto, della commedia, delle sue riflessioni sul tradurre Dante, parleremo appunto in questo dialogo a tre voci. Lo faremo con un controcanto di rilievo, cioè quella di un'altra importante voce poetica contemporanea, questa volta italiana, precisamente romana, ma con radici sarde e corse, Antonella Nedda. Anche Antonella Nedda ha all'attivo molte raccolte di poesie, di prose, anche lei è tradotta in molte lingue, oltre all'inglese, e anche lei è traduttrice di poesia. Un'altra voce veramente importante nel panorama della poesia contemporanea è ormai entrata nelle antologie italiane e straniere. Ma avremmo modo di parlare della loro produzione, o meglio di far parlare loro della propria produzione. Partirei quindi con una prima domanda, una domanda rompighiaccio, una domanda netta, diretta, che prevede probabilmente una risposta anche impulsiva, emotiva, che rivolgerò ad entrambe. Esattamente quando è stata la prima volta con Dante, la prima lettura, la prima impressione, se c'è stata o meno una mediazione, che sia stata una traduzione o qualcuno che ha introdotto la lettura di Dante, insomma, in qualche modo un galeotto. E partirei da una risposta di Olga. Prego, Olga. Grazie, Florinda, buongiorno a tutti e a tutte. Io ho letto per la prima volta Dante, ho letto Vita nuova e la commedia, in traduzioni russe. Probabilmente al primo anno di università. E la prima lettura mi ha colpito. Questo è quello che mi mancava. Finalmente questo è quello che ho sempre desiderato. E allo stesso tempo, ero come se guardando una cosa preziosa attraverso un vetro spesso e opaco. Quel vetro era un linguaggio di traduzione, il russo, che era un po' artificiale e freddo. Ho capito che avevo bisogno, che era necessario di leggere Dante nella sua lingua, per avere un contatto diretto, si potrebbe dire tattile, con questi ritmi, questi suoni, con queste parole, significati. Così ho iniziato a imparare l'italiano, con il solo scopo, di leggere Dante in originale. Il mio italiano è troppo imperfetto e prego di scusare il mio italiano. E così il mio primo Virgilio nel mondo di Dante fu una professoressa italiana, Francesca Chiesa, la mia cara amica. Ci siamo incontrati a Mosca. All'epoca Francesca insegnava italiano all'Università Statale di Mosca. Abbiamo iniziato a leggere la commedia nello studio di un amico artista. E lei preparava i commenti per me. È stato allora che ho capito quanto sia impossibile leggere Dante senza commenti. Ogni poeta non viene da solo. Porta con sé tutte le cose con cui è cresciuto. Da questo punto di vista, Dante è unico. Dante porta con sé un mondo immensa e affascinante. Il mondo che allora non conoscevo affatto, di pensiero europeo e medievale, filosofia, teologia, poesia latina. Ero affascinato dal mondo che arrivava con Dante e voleva imparare tutto il possibile. E non ci sono riuscito fino ad oggi. Per esempio l'astronomia non l'ho mai imparata. Non so leggere una mappa del cielo stellato. E per Dante è una cosa molto importante. Tutto, penso. Grazie Olga per questo appunto racconto della tua prima iniziazione a Dante che sappiamo ha portato molto molto lontano. Rivolgerei la stessa domanda ad Antonella, aggiungendo anche come poi questa conoscenza, lo vedremo anche dopo con Olga, questa prima impressione, questo primo impatto con Dante è stato approfondito. Se come la lettura di Dante poi ha influenzato, lo vedremo, la vostra produzione poetica. Prego Antonella. Grazie Olga, ho lo stesso rapporto che ha lei con l'italiano, solo che lei lo parla benissimo. Grazie naturalmente di questo invito e sono contenta di parlare con voi. Dunque, la mia prima volta con Dante, sono consapevole del privilegio che abbiamo di poter leggere Dante in originale. La mia prima volta è stata sonora perché mio nonno, che faceva tutt'altro, non era un letterato, anzi c'erano solo libri di diritto nella nostra biblioteca, però aveva l'edizione illustrata da Gustave Doré e conosceva e soprattutto conosceva molti canti a memoria. Un tempo era normale che si conoscesse Dante a memoria. Quindi la prima volta è stata questa, è stata l'ascolto e l'immediata percezione di davvero un miracolo terreno e di una sintesi tra suono e pensiero. Questo non smette di stupirmi in un certo senso ogni volta che apro un canto della commedia. Perché ogni volta in questa architettura perfetta, in cui entra davvero tutto, l'astronomia, la filosofia soprattutto, e ecco in questa architettura, questa architettura perfetta però è allo stesso tempo piena di spifferi, di spifferi che fanno entrare la vita continuamente. Questo continua a mostrarsi a noi che leggiamo, che rileggiamo, quindi rinterroghiamo questo libro. E questa rilettura è passata, nel mio caso, attraverso la passione per la letteratura russa e in particolare per Asip e Mandestam, ma anche, seppure non sono direttamente in contatto, proprio con un'apertura dello spazio che trovavo nella lettura soprattutto dei classici russi come Tal Stoi. e questa rilettura di Dante attraverso appunto questo suo continuo a creare cortocircuiti tra tempo e spazio lo ritrovavo nella poesia russa, nella letteratura russa, di cui mi sono innamorata molto precocemente, anche io col Kovali off, cerco di decifrare, ma non sono assolutamente, quindi la mia pronuncia sarebbe terribile. Arriveremo, Antonella, all'influenza specifica appunto che Dante ha avuto nella tua produzione poetica, così come le vostre traduzioni, mettendo da parte la modestia che manifestate entrambe. Però appunto cercherei di chiudere questa parte sul proseguimento, diciamo, degli studi, degli approfondimenti danteschi, chiedendo ad Olga esattamente la stessa cosa, probabilmente per Olga immagino una conoscenza di Dante, come dicevi prima, partita dalle traduzioni, giusto ieri citavamo traduttori e interpreti da Mikhail Lozinski, Anna Akhmatova, o persino, come diceva Antonella stessa, un immaginario visivo, che anche questa mattina è stato particolarmente citato dagli illustratori come Doré o, non so, appunto, le arti che possono essere arrivate e permeate nella cultura russa e che ti hanno fatto in qualche modo da tramite. Io ho già detto del cielo stellato e si può non impararlo, ma non si può dimenticare mai che tutto quello che ci succede, succede in questo universo. È impossibile e ridicolo oggi imitare Dante, seguire Dante è diverso. Ciò che era più importante per me non erano le singole immagini di Dante, non la sua maniera, così dire, ma questa reale esperienza della integrità e vastità del mondo. E ciò che la persona umana non si perde ha fatto in questi spazi, è collegato, ognuno di noi è collegato al centro del mondo. Questa è l'idea di Dante, come fanno tutte queste stelle dantesche. In questa esperienza dei rapporti tra tutto, forse, c'è la risorsa del potere, della forza della parola di Dante. Perché la prima cosa che possiamo dire della parola di Dante, penso, è che è una parola potente. Niente di grande, di serio, è più possibile. Dante dice che è possibile. Olga, allora proviamo ad entrare adesso nel merito proprio della parola di Dante, di questa potenza sicuramente e della sfida che tu hai accettato di tradurre la commedia. Quindi entriamo nel lavoro sulla lingua di Dante e sulla traduzione poetica, che sicuramente è stato profondo, difficile, essenziale, non solo da straniera che ha voluto appunto imparare l'italiano per poter leggere Dante in originale, ma anche come poetessa, per arrivare a dirla con Ungaretti, a quel segreto contatto con l'autore e con la sua cultura necessario per una traduzione efficace. Del resto è proprio il tuo desiderio di lettrice in originale, diciamo così, che probabilmente ti ha resa traduttrice. È stato così con Dante l'italiano, ma è stato così con Rilke il tedesco, Elliot l'inglese, Claudel il francese e via dicendo. E nelle tue considerazioni appunto sul tradurre Dante, dici molto chiaramente, ti cito da un'intervista, l'arte della traduzione è l'arte di perdere. Nel caso di Dante preferisco perdere la forma in versi per conservare il tono e le sfumature di senso. Non vorrei raccontare a senso ciò che invece Dante dice direttamente. Lui non ha paura di essere poco comprensibile. Non vorrei usare dieci parole dove lui ne usa tre. E la lingua russa mi resiste. Allora io ho trovato questa bellissima frase, no? La lingua russa ti resiste, cioè ti oppone delle resistenze a questa capacità di Dante di non aver paura di essere incomprensibile, no? In questo senso. Allora, com'è nata questa tua idea di tradurre la commedia? Com'è stata l'esperienza? Il lavoro di traduzione? Prova a parlarci di questa tua immensa fatica. Io posso far vedere questo libro che è stato stampato tre mesi fa. Il libro Tradurre Dante si chiama. E queste sono le mie traduzioni delle tre canti di Dante. Mi ha rattristato il fatto che la nostra migliore traduzione classica della commedia non trasmette il tessuto vivo del discorso di Dante. La traduzione di Michael Lozinski, poeta, erudito, amico di Anna Akhmatova. Questa traduzione è superba, riproduce la forma del verso, terzini, rima, ritmo, e allo stesso tempo è molto accurata. Questo tipo di lavoro potrebbe essere chiamato un'impresa, un atto eroico. Ma Dante di Lozinski suona di museo, suona accademico. C'è un tono costante di declamazione solenne e uniforme. Io volevo che il lettore russo sentisse il dramma della narrazione, le diverse voci in essa, la velocità con la quale tutto cambia in Dante, e l'inaspettezza esplosiva della sua narrazione. E ho deciso di sacrificare la rima, non imitare le terzini, e di consegnare il verso di Dante, non in metro regolare, ma in verlibre. Per quanto riguarda il contatto segreto, mi piace molto come Dante sembra scomparire, passando la parola ai suoi interlocutori. Dante è un maestro di questo teatro speciale. Quando parla Virgilio, Dante è Virgilio, e quando parla Catoni, è Catoni. Dante è assente. Dante, come ha scritto il nostro Ossip Mandelstam, non descrive, non racconta, ma rappresenta, fa la realtà. E così che i bambini, quando parlano di qualcosa, la fanno davanti ai nostri occhi. Vogliono che i loro ascoltatori entrino direttamente nella storia. Con Dante siamo sempre qui, come Antonella ha detto, siamo in presente. E colpisce soprattutto questa capacità di rappresentare quando si tratta dei significati più complessi e sublimi. Il teatro del sublime è molto interessante. Bellissimo, Olga, grazie davvero. Chiederei ad Antonella di intervenire proprio su questo, perché anche Antonella, lo abbiamo detto prima, nel suo laboratorio di scrittrice, nella sua produzione proetica, molto preso dall'esperienza delle sue traduzioni letterarie. Quindi, in qualche modo, proprio tradurre altri poeti diventa un laboratorio. Allora, qual è stata questa sua esperienza e come può, non dico per solidarietà, però può immaginarsi la difficoltà del lavoro di Olga? Olga ha detto immediatamente qualcosa che condivido pienamente. ha parlato di perdita della traduzione come un esercizio di perdita e con il tentativo che chi traduce sa quanto è spesso drammatico, di rappresentare un tono. Olga ha usato la parola tono che è estremamente importante. Per quanto mi riguarda la traduzione è sempre il tentativo di riattraversare un mondo, di provare a mettermi all'ascolto di una voce, e non soltanto di una voce, ma di un territorio. Per cui c'è ogni volta la consapevolezza della distanza, la consapevolezza di quanto sia sempre un traduttore, cito una frase molto celebre dell'immagine del traduttore, della traduttrice che sta in un albergo lontano, quindi che ha questa consapevolezza della distanza. E ogni volta che ho tradotto praticando non solo l'errore, ma l'errare, nel senso di... Vagabondare nei meandri della poesia. Andare avanti e indietro nei testi. ho provato proprio questo tipo di relazione di cui parlava Olga. Dante l'ho sempre riletto molto volentieri anche nelle traduzioni altrui, nel senso che poi rileggere un autore, un'autrice che conosciamo in un'altra lingua ci dà sempre delle informazioni in più, come anche essere tradotti in un'altra lingua. La parte non è mai indolore perché ci rendiamo conto... Ci sente tradotti, traditi, interpretati. No, 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 ma come dire, si capisce quanto siamo responsabili. Senti, veniamo proprio al tuo Dante, a un Dante che ha influenzato appunto la tua produzione poetica anche attraverso queste mediazioni, mediazioni di traduzione, ma anche di transcodificazione. Prima parlavi proprio nel tuo primo impatto, no, di un'edizione illustrata da Doré, di come ti è arrivato in qualche modo l'immaginario poetico dantesco sia in maniera diretta, diciamo così, che indiretta. E per far capire anche a chi ci sta ascoltando a cosa faccio riferimento, leggerò indegnamente, lo dico subito, metto le mani avanti, un tuo componimento, L'aria è piena di grida. Pensi davvero che basti non avere colpe per non essere puniti? Ma tu hai colpe. L'aria è piena di grida. Sono attaccate ai muri. Basta sfregare leggermente. Dai mattoni salgono respiri, brandelli di parole. Ferri di cavalli morti circondano immagini di battaglie. Le trattengono prima che vadano in un futuro senza cornici. Cosa ci rende tanto crudeli gli uni con gli altri? Cosa rende alcuni più crudeli di altri? Le crudeltà subite e poi inghiottite fino a formare una guaina con aculei sul corpo ferito? O semplicemente siamo predestinati al male e la vita è solo fatta di tregue dove sostiamo per non odiare e non colpire? Citando la definizione bellissima della lezione magistrale che ieri ha fatto Shoinka ti si potrebbe definire poeta infernofila in questo senso. Cioè quanto c'è dell'immaginario appunto poetico dantesco in particolare dell'inferno in terra in questo o in altri tuoi componimenti? Dobbiamente c'è molto e infatti la lezione, lo speech bellissimo di Shoinka ieri mi ha fatto riflettere effettivamente su quanto poi l'inferno sia stato come dire profetizzato da Dante ma per fortuna non solo l'inferno anche il se non il paradiso per chi ha una visione laica certamente il purgatorio è quello di cui bisognerebbe fare esperienza e Dante ha sempre influenzato vorrei dire che è proprio continuamente presente insomma sta sul tavolino sta sul comodino e come diceva Olga e Alexandra prima ci dà coraggio ci dà coraggio ci mostra come davvero possiamo non imitare ovviamente la sua poesia ma leggerla come una ininterrotta gli è stato parlato è stato citato molto il fuoco proprio come un'accensione del fare poesia in questo testo che tu hai letto non certo indegnamente pensavo come dire avevo anche molto presente presenti tutte le guerre di cui l'Occidente è circondato e a cui non riesce a a porre a porre rimedio nel discorso nel discorso di Sovinka ieri si parlava di gelo dell'inferno come come gelo è effettivamente la caina della della commedia è fatta rintocca di questi suoni duri ottusi questo cozzare di di crani e quindi come dire spesso si ho usato se si può usare questo termine i versi di Dante come come rampe di lancio come ponti per sì per 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 trovare continuamente la fiducia nella nello scrivere che non è non è affatto semplice certo grazie Antonella nella stessa domanda la rivolgo anche ad Olga ovviamente andando oltre alla traduzione cioè Dante entra l'influenza di Dante entra anche nel tuo sentire poetico sicuramente attraverso la traduzione ma diciamo c'era già prima della sfida a tradurre Dante perché insomma avevi già lavorato anche nei saggi ma anche con l'influenza che Dante ha avuto appunto con i legami con i poeti del novecento e hai dichiarato una bellissima intervista se non sbaglio è proprio disponibile anche ancora su Rai Cultura quanto non ci sia nulla di simile a Dante nella poesia contemporanea russa o comunque nella poesia russa in generale e lo hai definito un vero e proprio terremoto che è anche un'altra importantissima immagine infernale che però ha qualcosa di positivo ecco che conseguenze ha avuto questo terremoto nella tua produzione poetica non è facile per me dire non lo so ma io penso che se qualcuno ha preso Dante come un modello della poesia si deve avere un'idea di poesia un po' un po' differente da quella moderna perché questa poesia non solo come una grande ispirazione non come autoespressione ma come un grande lavoro un lavoro etico intellettuale educativo spirituale Dante non si esprime si crea di nuovo e rinasce nel suo discorso lui vuole essere un'altra che vuole trasumanare per me seguire Dante è sempre cercare di diventare nuovo di essere un essere nuovo questo è per me una cosa principale guarda ti porto oltre a questo essere nuovo che dici tu e al valore etico morale educativo della poesia dantesca proprio per farti parlare del diciamo così del ruolo sociale che può avere la poesia oggi non credo di ricordare io il tuo impegno civile la tua presenza nel 2011 in piazza per i cosiddetti moti di mosca tra chi camminava appunto nelle passeggiate degli scrittori cioè germi decisamente interessanti di una società russa contemporanea di un modello di poesia che vuole lasciare appunto un segno alla società e molta della tua saggistica fa riferimento proprio al potere salvifico della della bellezza e della poesia penso all'epifania della bellezza all'appello al papa degli artisti o a maestri di libertà in Russia allora ti chiederei proprio di approfondire per noi questo tuo concetto questo impatto che la poesia ha sulla società contemporanea proprio il riferimento a Dante al suo vivere civile che tu hai definito in qualche modo immagine di una nuova laicità un Dante che non si estraeva da quel mondo tanto difficile che viveva ma anzi voleva con la sua poesia non solo rappresentarlo ma salvarlo ecco anche qui cito brevemente alcune tue dichiarazioni queste sono addirittura del 2015 quindi come vedete molto prima di una esperienza traduttiva in cui dici il mio lavoro con Dante è in un certo senso un atto di resistenza voglio che la Russia scusatemi voglio che in Russia sia conosciuta l'Europa che amo l'Europa geniale dei grandi pensatori e artisti dei santi e dei filantropi l'Europa dove la dignità della persona umana è indiscutibile ecco partiamo da queste dichiarazioni molto belle molto forti molte sentite che secondo me caratterizzano la tua vita oltre che la tua poesia sì Dante come sappiamo voleva condurre l'umanità ad uno stato di felicità dopo l'esperienza delle utopie del ventesimo secolo non oseremmo fissare obiettivi così ambiziosi e futuristici mi piace molto l'idea di Mandelstam Mandelstam nel contesto dantesco diceva che la cultura poetica nasce dal desiderio di prevenire la catastrofe di farla dipendere dal sole centrale di tutto il sistema questo è forse più comprensibile all'orecchio moderno la prevenzione della catastrofe tutti ora sentiamo la vicinanza di qualche catastrofe la nostra personale la catastrofe della nostra civiltà la catastrofe del pianeta con tutta la vita che lo riempie la poesia resiste alla morte ogni opera poetica vera miracolosa non sarà necessariamente un'enorme epopea come quella di Dante può essere una poesia breve di pochi versi ma è un segno della presenza della vita della sua vittoria su tutto ciò che è insensato e brutto una vittoria pacifica io penso che ogni nuovo fenomeno del genio umano abbia un significato reale non solo per la società la società potrebbe non notarlo ma per lo stato dell'universo io sono sicura che questo è così e Dante nella Russia contemporanea credo sia necessario perché noi non abbiamo avuto un poeta forse neanche un pensatore che fosse così ardentemente dedicato alla giustizia come Dante la giustizia è una parola chiave per Dante come nuovo e nessuno nella cultura russa ha mai dato un vero senso del politico nel senso aristotelico senza il quale la vita umana non è proprio umana io penso che è così e conosciamo il costo per Dante stesso della sua convinzione che l'uomo è un essere vivente politico giustizia libertà e noi sappiamo che per Dante libertà costa la vita libertà va cercando dice di lui Vergilio Alcatone poi dignità della persona umana e questi valori tipicamente danteschi sono oggi più che mai necessari per noi in Russia decisamente non solo in Russia ma in Russia in tutto il mondo siamo molto molto vicino alla catastrofe davvero la poesia possa avere questo valore salvifico almeno di indicazione di indirizzo Antonella anche nella tua di produzione poetica esce in realtà fuori un forte impegno sociale questa funzione salvifica della poesia nella nostra contemporaneità penso in un'altra prospettiva alla tua definizione di poesia come ossigeno addirittura con un valore ecologico un apporto alla sostenibilità sociale e non certo economica penso alla partecipazione e all'ottimo risultato del festival europeo della poesia ambientale o al tuo ultimo credo sia l'ultimo geografie quindi questa attenzione quasi a vivere una situazione attuale una poesia che veramente può cambiare la realtà mi verrebbe da dire persino guardando a un Green Deal o qualcosa di simile sì volevo riprendere un'idea importante che condivido che hanno una nota di Olga Aleksandrovna quando lei ha notato che Dante in realtà parla poco di sé nel convivio dice parlare di sé appare cosa non lecita non lecita e accenna solo rarissimamente alle appunto anche qui per attraverso dettagli alla propria situazione personale per invece spalancare lo sguardo sul 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 mondo per cui è vero il come dire il il lavoro che che mi interessa e dove Dante c'entra con la lettura di Dante entra moltissimo è un lavoro sulla anche sul cambiamento di sguardo sul tentativo di uscire da una prospettiva solo antropocentrica per guardare per guardare anche anche altro poesia come ossigeno è un titolo così che abbiamo trovato collettivamente perché il libro è un è un trialogo con viaggini e Donati che sono gli altri due titoli del libro certo la poesia la parola ossigeno in questo momento è drammaticamente attuale ricordiamo il I can't breathe che ha che ha colpito tutti terribilmente e la mancanza di ossigeno che sta mancando in questi giorni in 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 India quindi è un è una come dire è una parola molto 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 importante è da ricordare in questi in questi momenti l'abbiamo il titolo peraltro era stato scelto prima quello che volevamo dire che effettivamente leggere può dare una tregua leggere in particolare Dante può può essere un una boccata d'aria un un respiro quel respiro che diamo diamo molto per per scontato e ti ringrazio di aver citato geografie geografie è una perlustrazione di luoghi in in orizzontale e anche una riflessione su su quanto le frontiere siano un'invenzione l'erezione di muri sia siano invenzioni tipicamente umane mentre in una carta geografica non non esistono queste queste divisioni e quindi per citare una bellissima poesia di elisabeth bishop i colori dei cartografi sono più delicati meno violenti di quelli degli storici bellissima antonella grazie e avviamoci alle conclusioni proprio facendo il filo continuo con queste tue parole perché poi appunto tra letterati e geografi si ha la possibilità di ridisegnare le mappe del mondo e rimanendo anche così nel senso di questa mattinata che non a caso va dal locale all'internazionale ma anche all'attenzione al didattico all'insegnamento se vogliamo ma anche più che un insegnamento proprio un passaggio di testimone da una generazione all'altra l'ultima domanda che vi rivolgo è proprio questa quale insegnamento avete tratto dalla poesia di Dante dalla sua vita dalla sua poesia dal suo essere modello indipendentemente da una produzione poi vostra poetica ma forse più di vita e quale di questi insegnamenti che avete tratto consigliereste di cogliere ai più giovani soprattutto in questo difficile momento di di crisi in un momento in cui appunto hanno bisogno ecco di certezze tu prima dicevi a Dante mi sono in qualche modo aggrappata o comunque tramite Dante riusciamo ad avere una tregua proprio nella logica come dire che la poesia possa essere una speranza una speranza di cambiare la realtà possa incidere possa lasciare un segno o appunto addirittura etimologicamente insegnare no? in in questo senso prego Antonella e poi facciamo concludere Olga molto brevemente chiederei di riflettere su una su un solo verso che tra l'altro è stato ricordato stamattina in conclusione il verso del paradiso 22 sì non vorrei paradiso 22 in cui Dante vede la terra da da lontano e poi parla dell'aiuola che ci fa tanto feroci ecco se dovessi dire qualcosa come più che un insegnamento affiderei proprio una riflessione su questo su questo verso perché l'aiuola può essere coltivata contro la ferocia contro lo spazio della della ferocia bellissimo grazie Antonella Olga io penso spesso a questi versi sono pronunciati nel purgatorio da Manfredo orribili furono i peccati miei ma la bontà infinita ha sì gran braccia che prende ciò che si rivolge a lei questa idea di non idea ma esperienza della bontà infinita che è pronta di prendere tutto grazie Olga grazie davvero ad Olga e Antonella ad essere state con noi io mi voglio congedare da voi e da tutti da questo bellissimo dialogo anche sul senso della poesia facendo una citazione Antonella mi perdonerà da un commento che Olga fa a un suo stesso verso che secondo me riunisce un po' tutto quello che ci siamo detti abbiamo tentato di dirci seguendo la poesia contemporanea russa italiana e non solo sulle orme di Dante in Coda musicale Olga Sedakova dice il poeta è colui che vuole ciò che tutti vorrebbero volere e se il verso è bello io trovo ancora più bello il commento nell'auto interpretazione che lei stessa ne fa il desiderio direi sempre sulla scorta di Dante il desiderio è ciò che definisce la persona le persone spesso non si decidono a desiderare il loro principale desiderio o non lo riconoscono tra molti altri desideri minori ma il poeta può avere il coraggio di desiderare proprio ciò che resta segreto anche a se stessi ciò che gli altri anche senza saperlo desiderano che cosa? l'essere connessi l'essere in relazione con quello che si può definire il centro dell'universo il centro del cuore umano grazie grazie con tutto il cuore a Olga Sedakova e Antonella Nedda per questo bellissimo dialogo intorno a Dante e la poesia contemporanea grazie Florinda ci uniamo a questo ringraziamento con 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 a Olga e Antonella perché è stato veramente un dialogo di di grande respiro ecco quello che stiamo cercando credo di fare in questi giorni è un dialogo di grande respiro e di grande umanità e di grande umanità e quindi loro ci hanno dato un insegnamento di grande umanità pertanto le ringrazio le ringrazio veramente tantissimo di questa partecipazione così importante bene ora diciamo facciamo una pausa una pausa un pasto frugale forse riprendiamo alle due e un quarto alle quattordici e quindici saluto tutte e tutti con grande proprio ringraziamento gratitudine e ci rivediamo su questi schermi perché non possiamo che dire diversamente alle due e un quarto con Rino Caputo la tavola rotonda gestita da Rino Caputo su Dante Petrarca e gli altri classici italiani tra didattica e ricerca quali prospettive poi ricordo alle sedici e un quarto l'intervento di Elena Ferrante letto da Tiziana De Rogatis il nuovo alfabeto di Dante le parole di Beatrice e a seguire le conclusioni con Gian Mario Ansemini Colomineo Amedeo Quondam e Silvia Tatti grazie e buon pranzo grazie a voi ciao Antonella ciao Olga grazie davvero è stato un onore e un piacere grazie arrivederci saluto ciao a tutti ciao a tutti